come adesso la rimettiamo così vedono anche le nostre faccette allora intanto vi volevo appunto segnalare che quando leggete B e C non sono i tornei B e C ma uno è Classic e gli altri sono Blitz tutti gli altri sono Rapid quindi hanno giocato solo una volta Classic all'inizio del 2020 dopodiché hanno giocato nell'Earthings tutte quelle partite che sono ben nove fra cui l'ultima che tutti ricorderete in cui Carson ha beccato matto in mezzo alla scacchiera con Re e poi hanno giocato nei preliminari e hanno fatto patta tra l'altro la partita in cui Dubov era proprio ieri mi pare in cui Dubov ha giocato con il coppia degli affieri contro Torre sì, non mi ricordo se era ieri o l'altro ieri ma sì quindi questo vuol dire che Carson non vince cioè se tu togli quelle tre vittorie consecutive che Carson ha fatto al centro del tabellone che abbiamo visto che vediamo lui sta messo molto male cioè oggi sarà secondo me concentratissimo e quindi questa sarà una sfida veramente di fuoco di fuoco allora quindi in chat diteci voi per chi ti fate perché già avete iniziato qualcuno dice che vorrebbe vedere forza Dubov eccetera assolutamente in ogni caso è importante anche dire che siamo arrivati al knockout quindi Carson adesso Dubov deve battere assolutamente cioè non ha una seconda chance contro qualcun altro se vuole avanzare deve per forza vincere con Dubov a un certo punto in questi due match che hanno quindi diciamogli buona fortuna e per adesso probabilmente è strano dirlo ma forse Dubov è davvero il favorito in questo momento al gioco Rapid eh vedi che effettivamente queste cose ci servono perché vedere in maniera chiara qual è la situazione ci fa capire cioè che c'è una certa sofferenza perché mentre noi vediamo le partite e ci ricordiamo più o meno vagamente di quello che hanno fatto questi lo sanno proprio come se fosse scolpito nella roccia oh caspita io ci ho perso tre partite e quindi sarà tosta per Carson insomma qua tui nella chat stanno un po' ti fanno per Dubov eh beh ma è normale no? è come vedere un gigante che spira una formica il gigante contro Golia cioè chi tipi? Golia ovviamente no? eh io sì ma diciamo che mi piace vedere Dubov come gioca perché secondo me impariamo a dare armonia ai nostri pezzi e ci può essere anche utile e poi una novità diciamo così no? una novità può essere sempre carina assolutamente poi dal mio punto di vista è sempre interessante guardare le partite di Dubov perché fa veramente delle idee spettacolari in apertura alcune molto nuove, molto interessanti e onestamente credo che in generale in qualunque momento Dubov giochi bisogna sempre essere lì pronti a prendere appunti perché è veramente un approccio nuovo agli scacchi molto computeristico volendo diverso dagli scacchi classici assolutamente in ogni situazione cerca di creare qualche squilibrio qualche idea nuova qualche metodo per continuare a giocare quindi lontano tra virgolette da un approccio come può essere quello di Carson che in realtà è vero che continua sempre a giocare ma lo fa comunque in posizioni più piatte se vogliamo non così incasinate allora intanto saluti a chi arriva fra cui Evocation e gli altri i ragazzi iniziano fra 7 minuti esatti anzi forse anche 6 minuti ossia alle 5 in punto iniziano le partite quindi noi adesso ci concentreremo su questa ma faremo anche dei saltini sulle altre visto Nicolò io i saltini li faccio pure quando sono 8 le partite i figoli di quando sono 4 certo però Nicolò rispetto all'ultima volta che noi abbiamo fatto la diretta in effetti abbiamo meno possibilità di fare un approfondimento galattico delle aperture questi corrono come dei pazzi non c'è tutto questo tempo ah guarda su questo sono abbastanza convinto spero in realtà che però essendo comunque più esiguo il numero delle partite qualche chance di vedere qualcosa di interessante ce l'avremo io punto ripeto come ho detto le mie carte su i miei money vanno su Dubov mettiamola così credo che ci riserverà qualche sorpresa e poi la cosa che penso che sia importante è anche il coraggio che si acquisisce perché lui comunque oltre al fatto di conoscerlo bene perché come tu hai ricordato e forse non tutti lo sanno ma come tu hai ricordato lui è il secondo è stato il secondo cioè ha lavorato con Carse quindi lo conosce perfettamente sì assolutamente ha anche iniziato a rodare bene cioè a vincere a vincere oh intanto io vi faccio vedere anzi per farvi vedere per farvi vedere che siamo prontissimi vi faccio vedere qual è la situazione vedete che le due webcam sono praticamente pronte per essere ricatturate però ancora i giocatori stranamente non sono arrivati alla webcam ossia ci sono arrivati prima e poi se ne sono andati quindi e quindi adesso insomma a brevissimo saranno pronti e vabbè e quindi noi siamo praticamente qua prontissimi per questo super match Carse nel bianco nella prima partita ma io ripeto questo è l'unico match che voglio veramente seguire poi ovviamente switcheremo da una parte all'altra però mi aspetto grandi cose da queste partite assolutamente e anche solo so pensa ad esempio alla finale il campionato russo a cosa si è inventato Daniel contro Karyakin quindi io ripeto assolutamente completa e totale fiducia in Dubov che ci darà uno spettacolo e l'altro giocatore che in realtà mi interessa molto seguire è Rajabov perché da quando è tornato agli scacchi finora ci ha dato solamente grandissime grandissime aspettative su di lui dunque facciamo una cosa intanto visto che mancano tre minuti io vi lancio un piccolo video per ricordare i nostri sponsor cominciamo con il video di Herthings così poi torniamo a brevissimo a brevissimo a brevissimo a brevissimo a brevissimo a brevissimo allora va bene musichina anche abbastanza caruccia sarà un po diversa dal solito tappetino che metto io e questo è il nostro uno dei nostri sponsor e come vedete voi potete vedere che io già qui ho selezionato la la qualità dell'area di carson perché in realtà duboco non ha la macchinetta c'è la solo carson quindi potremo vedere solo carson in questo momento allora mancano due minuti per cui io mi faccio un giretto per vedere se se sono pronti i giocatori e noi siamo quasi prontissimi per partire riusciamo per caso a vedere velocemente i risultati delle ultime partite di ieri se ne abbiamo la possibilità che magari guarda già già sto chiedendo troppo no aspetta che adesso stanno per partire e quindi io voglio partire preciso preciso con con tutto a posto e vediamo un po se se ci riusciamo è carino che dubo in qualunque maniera provi a sistemarsi i capelli tornano sempre alla posizione originale non ce la farà mai allora comunque sta per partire la partita io prendo le telecamere e ci siamo senti quanto è rilassante il nostro sottofondo musicale allora eccoci qua eccoci qua eccoci qua l'altra volta la telecamera di dubu mi ballava in continuazione io non sapevo proprio come fare ma era lui che ballava e quindi siamo prontissimi per partire potete vedere le immagini dei giocatori che trovano la concentrazione e questa è una cosa comunque sempre simpatica e che si riesce a vedere in faccia chissà tu saresti un po diciamo la tua concentrazione sarebbe alterata se tu dovessi giocare che tutto il mondo ti guarda in faccia mentre proprio a distanza iper avvicinata che dici non ho idea può essere non non ho ancora avuto questa sensazione nel senso che essendo estremamente più scarso di tutti loro non ho avuto questa chance però non so già effettivamente se ci pensi già solo quando giochi in elettronica a volte forse un pochino sei influenzato quindi sì idealmente ma penso che chiunque tendenzialmente per quanto ci provi comunque per quanto possa non fregartene un minimo di influenza ce l'ha sul tuo gioco ok dalla faccia di carson oggi è un po vedi come cambia la luce quando loro cambiano schermo questa è una cosa divertente che affligge anche noi facciamo tutto il setup delle telecamere dopodiché ed eccoci con e4 e vai partito ottimo ok spero non berlinese ti prego non ce la potrei fare veramente vedi altri e c4 intanto ti ha dato una soddisfazione parziale però d3 sempre lento effettivamente no no ma mi sta bene un nel senso un italiana comunque posso vedere qualcosa di interessante da parte di dubob su su una berlinese diciamo che sfortunatamente per per quanto le linee nuove ci siano e ci sia qualche idea interessante temo che ci sia ben poco da fare no allora che vuoi fare ci vuoi cominciare a raccontare qualcosa ma soprattutto ricordiamoci questo nicolò che alcuni nostri amici sono magari non non sono neanche giocatori di circolo di torneo per cui forse possiamo anche ogni tanto dare qualche input di livello proprio un po più easy no per loro assolutamente vabbè ok fino adesso semplicemente stiamo giocando partita italiana classica no quindi in realtà di commenti tecnici ce ne sono pochi penso che l'unica grossa scelta che finora ha dovuto fare il nero è stata se giocare con alfiere in e7 o se giocare le linee con l'alfiere in c5 dunque qui gioca h6 no h6 che che è un una mossa che consente queste manovre che abbiamo già visto fare nei negli ultimi però gioca alfiere 6 qua cioè h6 e poi alfiere 6 quindi l'alfiere campo chiaro probabilmente se ne va a meno che il bianco non gioca alfiere b5 non so se alfiere b5 è evodizzabile in questo in questa linea oppure no ma diciamo che in generale h6 e alfiere 6 sono due mosse che vanno abbastanza a braccetto nonostante non sia così naturale forse perché esatto bisogna togliere la casa g5 al cavallo allo stesso tempo però indebolisci molto di più la casa g6 quindi le case chiare intorno al re diventano un attimino più deboli però allo stesso tempo stai anche cambiando l'alfiere campo allora diciamo anche un'altra cosa che può essere utile perché il nero gioca questo sistema e ha un vantaggio cioè il vantaggio potrebbe essere quello che nel momento in cui si apre la f vedete che il bianco ha tolto la torre dalla f è chiaro che si toglie la torre dalla f perché è tipica in questa manovra di cavallo però comunque se il bianco avesse diciamo saputo probabilmente dell'apertura della linea f non avrebbe giocato torre 1 comunque preferirebbe forse non avere la torre n1 con la f aperta a5 dall'altra parte allora vediamo un po' di capire questa a5 che serve probabilmente a impedire che il bianco prenda troppo spazio sulla di donna ma sì probabilmente serve a impedire qualche b4 a4 e grosse prese di spazio sull'ala di donna come hai detto tu probabilmente in alcune occasioni si prepara anche a spingere a4 b5 cavallo a5 e iniziare nero stesso a prendere iniziativa sul lato di donna a volte ci sono idee con donna b8 a volte con donna d7 torre b8 ma con la f aperta però forse esatto con la f aperta tendenzialmente principalmente penso che il gioco del nero si concentrerà sulla pera però non è detto perché il cavallo in g3 comunque fa un buon lavoro nell'impedire cavallo h5 cavallo f4 senti federico deluxe non è la partita di ieri è la partita di oggi noi siamo in diretta cioè come dicono in televisione no in diretta in diretta anzi avremo praticamente voglio ricordare il sistema di gioco perché altrimenti l'ultima volta ci siamo un po impicciati perché io non mi ero preparato adeguatamente o comunque con tutte le cose che devi fare non ha guardato bene i regolamenti e quindi è venuto fuori un'incertezza poi loro dal pubblico sono molto simpatici perché mi dicono tutte le cose depistanti fatte apposta per non fammi capire più niente no quindi no guarda che era così allora praticamente oggi oggi si giocano quattro partite se finiscono due pari non si gioca l'armageddon quindi coloro i quali sono assetati di sangue vogliono vedere proprio da veri campi l'armageddon devo tornare domani sera oggi sarà la trasmissione probabilmente un po più corta nel senso che gli armageddon non ci sono il match può finire in parità così come può finire in parità quello di domani e nel caso di parità anche domani poi o di uno a uno faranno il famosissimo armageddon si comunque sta procedendo la partita più o meno come abbiamo ipotizzato no? l'idea di A4 tra l'altro è anche quella di togliere qualche donna B3 a volte che potrebbe dar fastidio sul pedonine 6 allora io faccio una cosa adesso mentre tanto i loro continuano a vedere qua siccome mi stanno chiedendo vedi che loro sono venuti un po' più ciò diciamo sono puntualissimi no? e quindi non si ricordano più qual è la situazione e noi gliela facciamo anche rivedere perché guarda quanto siamo bravi e buoni e quindi gli facciamo vedere sulla sinistra al posto della scacchiera grande tanto ricordo che avete la live world quella spettacolare scacchiera che sta lì sulla destra che ci fa noi anzi potremmo stare anche sempre così così loro devono guardare con più impegno la scacchiera che è più piccolina però poverini quelli che hanno il cellulare vedono zero allora ripetiamo quello che abbiamo detto all'inizio trasmissione ossia che quelli che sono in azzurro o blu sono quelli che si sono qualificati quindi è rimasto fregato Nakamura per spareggio tecnico e clamoroso ultimo posto di Ding che ha un po' deluso anche se Nicolò ci ricorda che non è proprio il più forte rapido però insomma ha battuto Carlsen comunque no 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 assolutamente cioè non è il più forte tra i top infatti quello che mi sconvolge abbastanza è che sia finito ultimo cioè avrei accettato che magari poco dopo la metà classifica no? però ultimo ultimo è comunque un risultato abbastanza sorprendente comunque c'è vedi Enrico Luciani che ci dice Dubov era stato eliminato in realtà sì era stato eliminato ma io ho fatto uno squillo all'organizzazione ho detto ragazzi non mi potete eliminare Dubov dai cioè buttate fuori Karu perché io e Nicolò domani vogliono vedere assolutamente Dubov allora hanno cambiato il regolamento e hanno buttato fuori Nakamura con il quale poi ho discusso e dico non ti preoccupare poi ci facciamo un match certo lampo a 100 partite così sei contento e quindi no Dubov per un ciuffo si è qualificato per un ciuffettino e poi che altro c'è da dire qua che il tornero è stato caratterizzato dalla sconfitta di Karu al primo turno dopodiché ha cominciato a macinare e a vincere tutte le partite e va bene torniamo quindi sì io stavo intanto curiosando e vedo che la partita di Vachet in realtà sembra estremamente interessante vuoi la partita vuoi cambiare partita clamoroso e poi cambiamo subito sai che i nostri ospiti comandano e allora tu vuoi vedere la partita di Vachet? sembrava piuttosto interessante non ho avuto il tempo di capirci qualcosa perché non sono così veloce però è interessante bene vai capisci adesso dunque dimmi però quanto vuoi capire perché io devo sapere se poi se dobbiamo tornare sul cazzo le telecamere le lascio altrimenti devo devo andare a recuperare gli altri due però facciamo così cerca di vedere un po' se questa posizione se ti ispira cosa ti piace un pedone c4 è proprio orribile sembra semplicemente buono per il bianco al momento no? allora vediamo un po' quello che colpisce qua abbiamo una partita una debolezza contro l'altra presumo no? quindi debolezza del bianco e debolezza del nero questa è la prima cosa che vediamo sì a me hanno colpito di più i due cavalli in ottava traversa però sì ok allora strutturalmente ci sono le due debolezze poi con ecco che zompa un cavallo dunque salta il cavallo e salta il cavallo pure il pedone no? perché c'è il cavallo di 5? non si può mangiare il pedone per sumo ovviamente in e5 cavallo di 5? perché perdi la donna e basta no? no così dico c'è cavallo di 5 non si può giocare ah ma scusa pensavo dicessi donna per c4 no 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 però ok donna per e5 ovviamente sembra estremamente rischioso adesso ci sarebbe da calcolare vedere se effettivamente si vince in qualche modo concreto ad esempio donna per e5 cavallo di 5 donna di 6 alfiere e5 potrebbe vincere ma donna di 6 cavallo f6 vince subito però vogliamo dire una cosa diciamo questa cosa perché adesso noi abbiamo fatto uno step in più e abbiamo detto chissà se vince subito giustamente il bianco deve vedere se vince subito tra l'altro l'impresa ha questo, questo e minaccia cavallo f6 quindi donna di 6 improponibile ma anche senza questa analisi tutto sommato in partita noi dobbiamo escludere di ipotizzare una roba del genere molto spesso un pedone qui nella fattispecie il pedone in e5 serve sempre ad attaccare come tutti sappiamo in realtà blocca anche un po' l'alfiere quindi in molte posizioni il bianco potrebbe essere addirittura contento di non avere questo pedone quindi considerate sempre che a parte la specifica confruttazione c'è da pensarci veramente iper bene prima di mangiare un pedone del genere secondo me anche io Nicolò penso che tu sarai d'accordo che loro non la prendono neanche in considerazione a prescindere troppo loro sono sempre giocatori molto attivi ci può stare dipende dipende dalla situazione precisa in questo caso ovviamente perde immediatamente c'è anche da ricordare che quel pedone in e5 a volte è utile no qualche cavallo e4 cavallo f6 potrebbe vincere immediatamente al momento l'unica cosa che mi interessa è donna per c4 però essere onesto no perché effettivamente un pedone in presa c'è cavallo d5 però donna per c2 quindi quindi dunque vediamo un po no questa esatto donna per c4 e penso che sia un compenso dinamico in qualche modo però lui comunque abbiamo visto dalla live che ha giocato di 6 stiamo cercando di capire cosa c'è qui no? ah ok scusa non avevo visto che avesse giocato di 6 è un dettaglio abbastanza importante ma semplicemente se togliamo la donna poi quello non si muove più ok tipo donna d2 forse gioca donna a b3 però vabbè rimane impicciato con la donna vabbè comunque insomma facciamo finta che abbiamo visto tutto è un pezzo che è con compenso ovviamente facciamo finta che abbiamo visto tutto dai ah si si quella era così dai allora d6 cavallo a4 adesso intanto però guarda è sparito il pedone debole del nero e non quello del bianco si però sono abbastanza contento nella posizione del bianco in questo momento probabilmente posso esatto torre 1 mi metto a creare pressione non sembra per niente facile la posizione del nero addirittura potrei pensare a qualche sacrificio di qualità adesso ad esempio su alfiere d6 non sono sicuro che funzioni ma qualche torre per d6 già potrebbe essere interessante però qui non si concepisce per esempio io vedendo un alfiere qua io probabilmente prenderei in considerazione il fatto di sbloccagli proprio la strada praticamente quasi per sempre sono molto indietro c'è una debolezza bruttissima si forse è un po' troppo bruttissima perché qua arriva si alfiere g4 sembra estremamente forte f5 alfiere per e5 è indifendibile sì sì cioè devi fare f5 ma per e5 no vabbè allora non si può fare e intanto saranno contenti alcuni amici visto visto diciamo il tenore dei colori che ho scelto io ma non l'ho fatto apposta allora forse volta scelgo un altro colore va bene allora vuoi fare un giretto ti faccio girare su Ghiri che è tutto contento ha portato il suo pedone in h5 per cercare di dare matto all'avversario questa potrebbe essere una partita sufficientemente interessante tra l'altro questa linea non si vedeva da tanto a livello top penso se non mi sto confondendo una delle ultime partite è stata molto tempo fa interessante scelta la parte di raggio assolutamente diciamo che prova a equalizzare forza bruta praticamente no perché questo tipo di posizioni è vero che c'è la debolezza in d6 il nero è riuscito a cambiare il suo alfiere campo scuro che tendenzialmente dovrebbe essere una cosa positiva perché quello è l'alfiere che rimane di solito in e7 bloccato però allo stesso tempo la donna in f6 è abbastanza fuori posto e il pedone di 6 rimane sempre lì che si potrebbe prendere o meno a seconda della situazione allora guarda ti faccio vedere solo velocemente l'ultima che rimane che è questa che è una struttura di cambio centrale abbastanza semplice probabilmente questa è la partita più semplice l'unica cosa un po' stramba che vediamo è un pedone in h5 com'è che ci siamo arrivati a una berlinese questa qui è una russa questa qui è una russa e sono arrivati in questa struttura piuttosto semplice perché vedete che simmetrica eccetera però prima di tornare a Carlsen se no poi dopo i nostri amici ci dicono che balliamo troppo e faccio vedere che Vascella Grav si è spolverato tutto non c'è più il pedone in c4 c'è un pericolosissimo pedone in d5 siccome sei curioso te lo faccio anche vedere d6 ok d6 cavallo a4 d per e torre 1 ah donna per c4 via le donne e via il pedone b6 attacco e difesa adesso insomma adesso effettivamente il bianco mi sembra molto bello non ho analizzato bene cioè la sto guardando insieme a te però guarda il cavallo che tu avevi il tuo occhio e ha subito visto no queste due schifezze qua giù guarda quanto è brutto il cavallo in b8 sembra semplicemente perso essere onesto è vero è orribile questo è debole il bianco c'ha due pedoni che corrono e 4 minuti in più sull'oroggio quindi noi salutiamo ma Vascella Grav per adesso in vantaggio contro Aronian ma torniamo al big match anche perché io non ho messo le telecamere qui mi sembra anche più carino e torniamo vi faccio vedere quello che è successo partita quindi molto lenta il che denota anche una diciamo così un'attenzione particolare da parte di Carlsen il quale sapendo che l'avversario è un giocatore molto temibile soprattutto le posizioni tattiche cerca di tenere la posizione sempre sotto controllo continua a prendere spazio il nero sulla di donna e che facciamo vedere che questo tipo di mossa impedisce l'espansione da parte del bianco vedete che per esempio il bianco lì dove riuscisse a posizionare un pedone in b5 toglierebbe un pezzo molto importante per la difesa delle case centrali e ricordiamoci sempre che il bianco adesso che il nero gioca sulla colonna f e gioca sull'attacco da questa parte qua il bianco non è che può stare fermo deve giocare al centro quindi un cavallo c4 è fondamentale del controllo in d4 e quindi automaticamente b4 b5 è molto carina quindi allo stesso tempo come dicevamo anche a5 serve per fare a4 che controlla la casa b3 quindi donna b3 non è più possibile che è un dettaglio abbastanza importante in queste posizioni perché la diagonale è abbastanza debole allora sto cercando di capirci qualcosa qua dubov gioca a d5 e il bianco non prende quindi tu mi vuoi dire che se prende d5 beh è abbastanza normale la scelta di non riprendere perché se e per d scusa e per d e per d sistemi sostanzialmente il c'è un pedone in presa ok e per d e per d cavallo per e5 volevi giocare eh mi pare questo sia forse forse non però cavallo per e5 cavallo per e5 torre per e5 alfiere d6 sembra molto stile martial no? c'è qualcosa qui forse alfiere d6 anche semplicemente sì poi cavallo g4 donna h4 come dici tu è un sacrificio per attivare tutti i pezzi sembra estremamente attivo il nero in alternativa potrei prendere anche con donna per d5 che non per forza è una brutta scelta siccome il pedone in d3 è molto debole no? sì io stavo guardando anche questo tanto la casa f4 ti rimane magari questo è proprio orribile il pedone in d3 così effettivamente sì qui qui probabilmente a dirtura potrebbe stare meglio il nero senza troppi ma donna e2 cioè senza accennarsi troppo da sa che giri qua ok donna e2 magari riusciamo a cambiare il pedone e per il pedone d che non sarebbe neanche una cosa così brutta visto che 6 poi rimane debole però comunque non diciamo che preferirei evitare una posizione di questo tipo con il bianco ma ma anche Karsen infatti ha giocato b4 e prendendo comunque spazio lo stesso e questo consente l'apertura della colonna A il cambio delle torri e adesso il nero qui fissa la posizione questa è una mossa interessante dobbiamo cercare di capire perché gioca b4 d4 d4 è una mossa complicata nel senso che sono quelle mosse a doppio taglio di cui io te ne penti tra 20 mosse oppure era oggettivamente buona no? perché in questo momento stai fissando la tua struttura pedonale però allo stesso tempo stai anche fissando una debolezza in d3 del bianco e ti stai prendendo più spazio stai chiudendo diciamo la diagonale alla donna che comunque da da uno stava per quanto non non stava mettendo chissà che pressione ma comunque qualcosa in e5 in più si stava si stava preparando ad esserci no? e d4 chiude tutto questo però allo stesso tempo fissa le proprie debolezze quindi e6 ed e5 rimarranno lì senti allora intanto ti faccio vedere che il povero Aaronian non ha manco più il pedone in a5 è sparito pure quello gli ha proprio gli ha soffiato ma qua per quanto mi stia simpatico per quanto sia un ottimo giocatore mi sa che qua semplicemente ha una posizione persa si sembrerebbe abbastanza bruttina se non altro si è riuscito ad attivare un minimo no? eh si allora però torniamo a questa che effettivamente si sta muovendo allora fammi vedere perché ha giocato donna b1 io d4 ancora ci sto per capire cioè vorrei capire questo ma così impariamo tutti insieme no? allora vediamo un attimo ma d4 la giochiamo anche perché c'è per d5 che è come minaccia che adesso comunque sono spariti un po' di pezzi forse oppure forse no oppure è proprio tematica perché no penso che sia tematica sai perché tipo potrei anche giocare una mossa come donna d7 qui e non penso che che tu possa davvero mangiare il pedone in a5 anzi probabilmente se fai e per d dopo donna per d5 questa volta rischi di stare veramente male io mi sto anche interrogando su questo se il bianco non gioca cioè se il nero non gioca a questo cosa fa il bianco perché adesso il bianco forse veramente minaccia di prendere in d5 se non vedo altri piani particolari forse gioca ma come dicevo no donna d7 semplicemente facciamo adesso il bianco se vuole il nero può stare fermo e il bianco che farebbe d4 d4 d5 non si forse forse addirittura d4 forse d4 d4 che tenuto la donna questa potrebbe essere una buona motivazione per fare d4 col bianco col nero impedire di farla al bianco d4 o b4 sì anche se a me non piace no b4 mi sembra b4 è un piano molto facile cioè molto elementare ma b4 assolutamente è il piano principale con cui sono perfettamente daccordo con te la domanda è se d4 era fatta con la specifica ragione di impedire d4 del bianco certo certo allora vediamo un po' ma non penso onestamente perché sai quello che non mi piace di d4 è al naso è ma sembra proprio brutto c'è l'alfiere in d2 in presa no ma dico isolare un pedone in d4 così con questi alfieri non è che mi convinca tantissimo sì quello sicuramente infatti su e per d pensavo di fare e5 ok però probabilmente puoi fare il d per e che è più forte vabbè comunque e per d5 qualcosa forse il bianco lo trovo comunque vedete che noi che cosa stiamo facendo quello è il lavoro che va sempre fatto cioè noi abbiamo l'occasione quindi investigare questa produzione questa struttura che magari ci può capitare cerchiamo di approfondire questa spinta tematica in d4 cerchiamo di capire perché è stata fatta è così che dobbiamo sempre Naka è stato eliminato sì 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 a Matt Karl Matt Pohn è stato eliminato adesso vi rimetto la classifica di ieri quindi vediamo che succede qua adesso il bianco facciamo vedere anche questa cosa che è abbastanza semplice il bianco non vuole catturare perché catturando avrebbe diciamo snellito la struttura del nero avrebbe tolto il pedone doppiato quindi questo è un elemento piuttosto chiaro e infatti come ci diceva Nicolo prima d4 è una mossa che comporta una grossa responsabilità perché mentre fino a qui il centro del nero è piuttosto fluido adesso una volta che spingiamo è fissato e se il bianco non cambia mai rimarranno per sempre questi due guarda penso che la motivazione principale per cui sia stata fatta d4 è che c4 non è buono perché se c4 fosse buona per il bianco allora il nero finirebbe oggettivamente male ma qua forse puoi giocare alfiere b4 e cambiare immediatamente la debolezza e il pedone 5 non è in grossa scusate con la debolezza l'alfiere cattivo perché poi c'hai sia cavallo t3 che cavallo c2 qualcosa con donna di 6 c'è cavallo c2 ci sono tante cose no? probabilmente questo però il bianco intanto dice scusa ma io mo te li lascio così per sempre vogliamo anche dire questa cosa perché non pensiate che una struttura del genere ecco che è proprio si è consolidata così non pensate soltanto questi due sono orribili perché questa è una lettura molto anche diciamo così immediata una percezione immediata però è uno step A passate allo step B cioè quelli sono brutti punto ma danno anche delle possibilità dinamiche in particolare a parte il fatto che i pedoni in questo modo controllano molto belle le case per i cavalli sia in quelle in cui devono andare gli avversari sia in quelle in cui devono andare i nostri c'è da dire che giocando così come sempre quando si doppiano i pedoni voi ottenete comunque un vantaggio ottenete una contropartita un'apertura delle colonne quindi adesso ovviamente il nero vuole giocare attivamente il nero è contento perché il nero è dubbo è un giocatore aggressivo bella partita vediamo come finisce infatti sceglie una mossa aggressiva sceglie una mossa attiva da adesso in poi ricordatevi sempre che avete il nero se voi avete il nero dovete cercare mosse attive dovete cercare di giocare con estrema energia perché avete una struttura molto bruttina a parte che pure d3 effettivamente non è che è una cosa super all'idea infatti come dicevo il motivo per cui d4 va bene è che non puoi fare c4 perché il problema principale secondo me sarebbe stato c4 nel momento in cui riesco a fare d per c la debolezza in e5 è compensata dalla debolezza in d3 allora intanto qui abbiamo un arfiere ma io voglio farti vedere un'altra cosa guarda un po' che ti faccio vedere io questa è sorprendente sorprendente come è successo tutto ciò com'è che abbiamo fatto patta praticamente aspetta sei sicuro perché abbastanza sicuri no? però comunque abbiamo no niente Nicolò per vedere indietro devi pagare un bonus non è che posso allora guarda indietro no vabbè qua più modi per fare patta addirittura allora ti sto facendo vedere tutta la partita se segui da me ci ha sorpreso perché mi sai cade sai cosa forse è stato un errore andarsi a mangiare quella 5 ma scusa secondo me si poteva giocarla più di dominazione ma io avrei tenuto io per come sono fatto avrei spinto in A4 e poi dopo ci si pensa cioè B6 e quello l'ha perso il pedone sì 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 però allo stesso tempo guarda che anche A4 non è facile difendere c'è qualche cavallo C5 secondo me quello che potrebbe essere stato un errore potrebbe essere quello di andare a cercare di mangiarsi questo pedone in A5 quindi un po' più indietro queste manovre di cavallo per mangiare il pedone A5 che poi è pure in A4 quindi c'è sì ok ma se lo lasci immediatamente lì ok fino qua mi potrebbe anche star bene però io avrei proprio evitato questa cavallo C4 cavallo B6 che mi sembra un po' una perdita di tempo se possibile e forse avrei cercato qualcosa di più attivo perché in questo momento sembra che il che il nero faccia molta fatica ok tornami due mosse fa insomma senza senza questa cavallo C4 B6 ok qua dopo E4 non so se c'è qualcosa di concreto ma in questo momento mi sembra che il nero abbia grosse difficoltà a svilupparsi e a sistemare i propri pezzi quindi cercherei qualcosa di concreto in questa posizione non ho idea di cosa essere onesto però è abbastanza naturale anche perché la potenza del bianco magari A4 semplicemente A4 e gioco sul fatto che tutti i tuoi pezzi sono messi male però A4 mi dai una protezione comunque c'è da dire che siccome il bianco punta su questi due pedoni passati liberi una volta che sono liberi tutte e due è un pacchettino diciamo che ti garantisce intanto però la live ci porta qui e quindi ci porta che effettivamente sì sì questo è patto aspetta che stai mangiando tutto guarda sei mangiato tutto è patta sì è patta perché è ancora patta ok ma cosa sta succedendo e non so ha perso tutti i pedoni però senti torniamo torniamo a Carsendubo che ce la stiamo anche guardando per benino arriva la spinta arriva la spinta è B5 e qui salta dunque vediamo un po' adesso però questo alfiere guarda cavallo F5 e va via dunque adesso la posizione guarda questa è anche una mossa E5 è una mossa importante perché mira giocare attivi indebolendo D4 mi pare perché D4 non può essere sorretta E5 è molto tematica l'idea penso sia semplicemente torre E4 a questo punto si che sta attaccando un po' tutto intanto Dubo si protegge il cavallo in G4 e qua qualche torre E4 forse donna C4 prima con qualche idea di fare torre C1 scusa ho detto una stupidaggine fammi chiarire perché se no poi dopo sui social mi dicono ha detto una cretinata allora H5 non serve per proteggere il pedone serve per dare la casa al cavallo che si va poi a sistemare in F5 da dove protegge molto bene D4 e il pedone H5 servirebbe poi a non far spingere in G4 vedete quindi si sta costruendo questo castelletto e tra l'altro vedete che in realtà prima di H5 c'era proprio H3 come minaccia in realtà se vogliamo andare contro chiunque ti stesse dicendo male in realtà tu puoi anche non farla H5 probabilmente perché hai qualche idea su F2 quindi forse puoi fare tipo donna F7 e H3 c'è H5 adesso perché c'è il cavallo in F3 impresa alla fine quindi H5 è un misto un po' difende il cavallo che si prepara a torre 4 però così è esatto vedi che quindi H5 ha difeso il cavallo in realtà yes ok allora quindi vuol dire che vedi che il mio inconscio dice delle cose anche quando cerco di sbagliare non ce la faccio allora E5 comunque quindi però la posizione rimane a doppio taglio eccola lo sapevo io me lo sentivo sembra molto buona per il per il bianco questa posizione essere onesto e questo per F3 mi sa tanto di disperazione si è forza è un sacrificio di qualità diciamo difensivo perché perché la cosa è semplice non si può difendere il pedo in D4 perché arriva anche torre 4 noi abbiamo tre là sopra e non ce la fai torre D8 torre 4 a parte il fatto che forse ha messo tanto di disperazione si si è proprio disperazione devo farlo per forza perché sennò ho perso immediatamente però è sbagliato concettualmente oh ma mangiamo mangiamo pure perché se mangiamo in C7 perdiamo B5 e anche D3 no allora se mangiamo in C7 io penso che segua donna B5 che attacca eventualmente se la donna si sposta anche 5 ah puoi fare donna D5 forse donna D5 vuoi andare a dare matto donna D5 sembra molto più forte vuoi andare a dare matto che ci saresti pure capace soprattutto magari se fai se ti metti la maschera qua rischi ok forse il bianco ancora qualcosa però non mi è chiarissimo come gli spatitori ci chiede la barra a istinto sembra tenere in qualche modo il bianco però non è piacevole evitiamo di andare in qualcosa del genere se possiamo allora siamo così intanto intanto questa prima partita Jack Carson lo vediamo molto molto sicuro di sé diciamo anche i nostri nuovi amici che oggi sono più del solito vedi che abbiamo 440 persone che ci seguono quindi approfittiamone per dare più input possibili più cose carine possibili allora agli nuovi che sono venuti vogliamo dire una cosa sui motori sulla barra che noi non mettiamo guardate che non mettere la barra è diciamo così un tra virgolette sacrificio che noi facciamo soprattutto noi commentatori per dare a voi il maggior ritorno il maggior utile possibile dalla trasmissione in maniera tale che non sia soltanto una trasmissione ma sia anche una sorta di pseudo lezioncine di dialoghi di scacchistici e è considerata che è una cosa che non si usa tanto perché di solito così adesso vi racconto queste cose da dietro le quinte in tutto il mondo succede che i commentatori non sono per niente contenti di non usare la barra perché noi no perché noi siamo fichissime e non abbiamo problemi ma hanno un po' timore di fare delle figure barbine metti che il tipo Nicolò non vede una donna impresa ma chi se ne importa non vediamo una cosa l'importante è che in questo modo noi pur facendo la figura di non vedere una mossa oddio non abbiamo visto una mossa siamo portati a darvi a ricollegare i nostri discorsi alla strategia e a darvi degli input più importanti quindi però considerate scusa? niente niente stavo pensando all'alta voce finisci il discorso ma ho un'idea sulla posizione per il bianco che tra l'altro è questa quindi ah ok hanno giocato donna per c7 sul serio? più che hanno giocato è Magnus che l'ha giocata e avrà visto una forse però adesso sta pensando ok la mia idea era di non mangiare subito c7 ma di prepararla tanto non scappa quel pedone no? e secondo me a un certo punto il nero è in zuzvang quindi se non lo mangi subito e fai tipo h3 seguita la f4 qualcosa del genere e quello non ti fa cavallo h4? eh ok ma intendo senza il cambio quindi la tua donna è in d7 la tua donna col nero no? eh eh ok f4 h3 non so in che ordine penso sia uguale che ne so h3 e questo come lo difendiamo? cavallo h4 e f4 ah proprio tutti i buchi che non c'è paura mamma mia e il punto è che a un certo punto non hai più mosse no? perché ok il cavallo in h4 se vuoi lasciarlo lì se vuoi spostarlo sono cavoli tuoi ma questo è impresa? cioè me lo vado a mangiare così? cos'è che è impresa? non so adesso no non ora perché c'è s6 no e adesso mangio di quattro no scusa hai ragione tu aspetta aspetta questa è no di quattro non la puoi mangiare che c'è cavallo f3 adesso non funziona adesso non posso mangiare di quattro però penso di poter fare donna per c7 donna per f4 donna c8 az ma veramente? forse non lo so aspetta un attimo ok non è per niente semplice no no dai dai Dubov è contentissimo qua con tutta sta roba che gli abbiamo dato qualcosa è andato storto forse sì va bene torniamo però alla diretta che ci importa tanto? già qua non è facile capire se se Carlsen ha sbagliato perché in effetti guarda come torna pavidamente in c2 aspetta ok ok mi è tornata la soluzione su quello che stavamo discutendo prima io parto con f4 non con h3 potrebbe essere un dettaglio importante f4 e se fai cavallo h4 adesso mi sposto faccio tipo re f1 e ti sfido a fare donna f7 visto che non puoi e il punto è che nelle prossime mosse io farò tipo h3 torre c2 volendo no e continuerò ad aspettare e il nero non ha un momento chiaro in cui cioè non ha un modo chiaro di migliorare no? sì può essere certo lui si è andato a pappare il pedone molto avidamente però adesso li ha lasciati tutte e due in presa da questi quindi a naso così per noi poveri senza motori sembrerebbe cioè io qui non è che sarei così contento col bianco di aver dato tutto questo gioco al nero faccia di Dubov com'è? come stanno messi questi giocatori? bella Dubov si nasconde la bocca però noi lo possiamo scrutare ma la posizione sembra piuttosto complessa beh sei anche abbastanza obbligato ma è patta perché è patta? scusa io gioco faccio scacco ah perché tu vuoi vuoi darmi anche il pedone F3 e portare donna G2 con calma che scacco vuoi giocare? è uno scacco è solo cavallo G5 no? si o cavallo D2 no cavallo G5 se no mi giochi donna E4 esatto ok diciamo cavallo G5 e si probabilmente F3 forzata e adesso se io mangio tu vuoi giocare donna G2 io dico donna E4 donna E4 più che altro non era fermo fermo scacco e donna E4 ok ma comunque più che altro non era perpetuo era matto se facevi perché c'è cavallo H3 cavallo H3 donna H1 si vabbè però appunto è ok è carino però da far vedere allora sta andando sta andando proprio così quindi torniamo guarda che se allora se questa non la vince Carson perché secondo me ha completamente sprecato ma tu pensi che sia ok però si è mangiato E5 che è meglio di cavallo G5 no? tu pensi che sia sufficiente per il per il nero per il bianco che il nero abbia tutte queste debolezze? allora non sono convintissimo di questa donna per B5 perché si mi lascia fare torre 1 appunto che se non altro mi riprendo E6 che è un pedone guarda che bello e adesso oh che è sta cosa no dai non ci credo che è un errore non ci credo non ci posso credere no dai non ci posso credere no 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 ragazzi allora Nicolò ti ringrazio di essere stato qui con noi la trasmissione è finita qui cioè non è possibile un errore del genere eh ma è anche perso cioè è un errore in buona fede senso che ha mangiato quello e questo è perso e qualunque altra mossa donna per E6 eeeh vabbè e poi si gioca dai eh sì oddio e togliamo sto cavallo donna per E6 ce ne andiamo che succede torre G1 che ci sta eh dove lo metti cavallo G6 sì sì già ci ho messo donna per E6 non so RH7 Nicolò facciamo una allora diciamo una cosa scommettiamo che se giochiamo noi col cavolo che abbandoni col nero qua cioè praticamente ok ma perché io sono ostinato eh no siamo tutti ostinati guarda qua c'è il bianco tra i pedoni ok se vogliamo essere seri qua donna E4 finisce no? guarda eh sì però vabbè può essere che loro siano stati sono d'accordo chiaramente se si poteva ancora continuare per qualche mossa però oggettivamente era perso allora io ti faccio andare su Ghiri su Ghiri eh ehm per vedere quello che succede qua sì eh ehm perché mi hanno tolto le partite le altre partite perché me le hanno tolte ah ecco perché me le hanno tolte ok perfetto allora io infatti vi dico che Aronian anzi ti faccio vedere che Aronian ha pattato questa posizione quindi incredibile recupero rispetto a come stava e che anche Duda e So hanno pattato quindi ehm quindi Karsen ha vinto è l'unico a aver vinto e ti porto all'ultima partita che è questa ok che è ancora in corso yes Anish con un minuto e venti ed è una mossa anche abbastanza difficile questa direi no? non è chiarissimo dove vuoi mettere i pezzi c'è qualche idea di vabbè lo dico giusto per di qualche donna per B3 quindi bisogna stare attenti no? perché esempio donna G1 cavallo F4 potrebbe essere un problema abbastanza grande nel senso che probabilmente devi ridare la qualità perché altrimenti c'è donna per B3 scacco se puoi mettere qualche cioè se la puoi mettere così si vede meglio aspetta che sto cercando di fare altro tanto qui c'hanno un minuto c'è per poco da fare nel nel commento delle linee dobbiamo eh infatti ha scelto di ridare subito la qualità con Torre per G6 sembra estremamente sensato ok direi entrambe abbastanza interessanti però forse donna per G6 donna per E5 non si può fare devo mangiare per forza di Re probabilmente ok quindi Re per G6 immagino cioè giocare altro mi sembra abbastanza oh ok donna per G6 donna per 5 con idea qual è cosa voleva giocare qua cavallo F6 non potevo mangiare di Torre scusami c'è direi piuttosto che di Don in G6 boh ok direi che qui sembra in realtà sembra ancora abbastanza complessa ma donna F5 si fa probabilmente creando qualche problema extra e su donna G6 magari un donna C5 patta 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 e quindi l'unico ad aver vinto è Carson wow penso che il motivo della patta sia che qua donna F5 donna G6 donna C8 donna D7 il bianco probabilmente deve per forza rifare donna F5 donna F7 si non donna G6 vuol dire che che questo pedone è troppo forte? eh? vuol dire che il pedone anche è troppo forte? probabilmente sì ok puoi scegliere di fare qualche alfiere per F6 e vedere come va perché comunque il re del nero è abbastanza scoperto però sembra un po' rischioso no? c'è anche Nicolò in chat intanto che salutiamo quale dei tanti Nicolò? ah il Nicolò producer di Chess 24 Italian ok allora andiamo quindi a sì c'è il secondo round Gio? beh ancora no un attimo non ho finito questo secondo preciso però intanto mettiamo subito le scacchierine così non ce le perdiamo che mi arriva subito ma voglio far vedere anche un po' qual è la situazione di classifica vediamo un po' se riusciamo a far vedere un po' la classifica curioso di capire come mai donna per G6 il re per G6 sembrava completamente vincente c'è un pedone in più secco e pedone H passato non ho capito questa scelta di Rajabov non so cosa abbia visto allora intanto vi faccio vedere questo che è simpatico questa è la situazione del di gioco dei giocatori cioè questi stanno messi così e stanno in giro per il mondo quindi potete vedere le varie differenze di fuso orario di tutti chiaramente questo si riferisce alla prima fase però adesso è la stessa cosa vediamo se invece io riesco a farvi vedere anzi senza vediamo se la faccio vedere senza vediamo se questa è la situazione attuale del del torneo quindi come vedete soltanto Dubov per la tristezza di tutti i tifosi nostri che in realtà mi sembravano di fare più per Dubov ha perso questa 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 prima partita è la cosa quasi guardate per chi è arrivato adesso invece vi faccio vedere perché ci sorprende perché guardate qual era la situazione tra Dubov e Karsen fino a questo momento nei loro precedenti e vedete che ultimamente Dubov stava veramente pressando e non perdeva più una partita da un bel po' tre sette partite che non ne perdeva una quindi Karsen sarà contentissimo si è sciolto ha sciolto questo problemino ed è più contento adesso può giocare più sciolto ha vinto la prima partita insomma no? sì io io continuo a rimanere sorpreso di quello che è successo nell'Anish Rajabov onestamente allora intanto che tu continui a rimanere sorpreso visto che abbiamo parlato della qualità dell'aria eccetera vi faccio anche vedere l'altro nostro sponsor a parte che è uno sponsor di uno sponsor abbiamo già parlato che è Hertings Master che calcola la qualità dell'aria quindi potrebbe essere divertente soprattutto vedere la differenza tra i vari giocatori cosa che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare però abbiamo intanto anche qua l'altro sponsor che abbiamo noi è Julius Bar che è quello che è uno di quelli che mette i soldini questa è la classifica con l'attribuzione dei premi già vinti e invece adesso vi faccio vedere anche per quelli che non l'hanno fatto alcuni mi hanno detto che hanno gradito molto c'è questo nuovo Brands Opera che può piacere soprattutto se uno non è troppo abituato a avere quelli precedenti vi faccio vedere velocemente questo video in questo intervallino che abbiamo grazie a tutti allora qua effettivamente secondo il nostro commentatore nicolò che seguiva con più attenzione c'è stato un momento decisivo hai controllato è vero quello che dici io ho appena guardato si vince completamente adesso sì 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 ma c'è semplicemente un pedone in più più le debolezze sulle sulle case scure del bianco lui ha lasciato il 5 perché ha visto che ha visto qua non ne ho idea è questo che mi sto convivendo cioè non ha forse ha visto qualche ma non lo so onestamente perché al fiere di 4 forse si è sognato cosa si è sognato fiere di 4 c'è cavallo per e 3 c'è la donna impresa cioè quindi donna e 4 scacco donne 4 tra l'altro è anche pericolosissima perché rimane esposta al doppio appunto esatto esatto cioè non capisco avrà sbagliato eh sì però è un bel errore perché questa è vinta col bianco è vinta abbastanza comoda col bianco col nero no sì abbiamo un pedone in più libero e quindi effettivamente se è così giri deve essere abbastanza seccato va bene no giri deve essere molto felice no scusa scusa raga deve essere abbastanza seccato allora intanto vi voglio vi voglio dire che questo per chi non lo sa allora in chart alcuni mi hanno detto che perché anche loro sono molto attenti no quindi in chart qualcuno mi ha detto che opera è piaciuta molto come browser come browser è piaciuto molto io l'ho provato però vedi che quelli che mi dicono che io sono andato dal barbiere vuol dire che non mi hanno seguito nelle serate del lunedì allora voglio dire questo che comunque alcuni hanno detto che è molto carino ma questo bronze oltre avere delle capacità diciamo grafiche che potete gestire a vostro piacimento a delle cose che sono interessanti ossia è a una vpn c'è una che io non so ma quello di però me la sono andata a guardare è una rete virtuale privata che tu magari nicolò sei più bravo di me su queste cose che è in sita nel browser tu sei esperto oppure dobbiamo lanciarla così nell'aria questa cosa la lasciamo a loro no no la lasciamo nell'aria però è quello che studio io in teoria va bene ottimo quindi ti potrebbe interessare devi farci assolutamente un salto quindi poi a poi tra l'altro l'hanno creato proprio come browns per il gaming quindi certo però ci vorrebbe una sedia da gaming seria non so se stiamo parlando della cosa giusta io non faccio che non lo so c'ha dei limiti particolari di cpu dirà cioè tutte cose dedicate quello che può interessare a noi secondo me il supporto su twitch io devo ancora investigare con attenzione però effettivamente c'è Matteo per esempio che è molto soddisfatto dice che è un bellissimo browser e per cui va bene allora rimettiamoci la nostra scacchierina perché a breve dovrò cominciare forse iniziano alle 18 non sono sicurissimo leggo in chat che stanno facendo domande sulla vpn si confermo che tendenzialmente la banda di una vpn gratuita non è altissima però non ho visto quant'è quella di opera quindi potrebbe benissimo essere una prima vpn accettabile gratuita che non sarebbe assolutamente male se è come gratis quindi effettivamente ma perché di solito questa è una cosa che devi pagare no cioè tu paghi un pro questo programma questo sistema questa cosa piene serve sostanzialmente quando vuoi navigare in incognito a parte che ci sono molte altre molti altri modi di farlo ma sostanzialmente tutti lasciano tracce anche la vpn però la vpn il metodo più tra virgolette affordabile per chi non non si intendesse particolarmente di computer se tappa una vpn il suo indirizzo ip viene letto in maniera diversa viene letto in diverso indirizzo ip dal dai siti che lo richiedono semplicemente quindi è comunque una cosa in più rispetto al normale che usiamo noi può essere una sicuramente una cosa carina allora intanto diciamo questo oggi ci sono perché me lo chiedono in chat oggi ci sono vedi che e carl e carl e carl visza o come ti chiami ha detto che è un ottimo browns quindi ok da oslo from eternity che non ho capito se è una una battuta oppure no e anni a 24 sia la mia età e questo mi fa mi ricorda di quanto sono un fallito rispetto a loro però 24 anni ragazzi essere la c'è anche chi ci arriva più giovane addirittura vedi che c'è chi è arrivato adesso quindi si accorge soltanto adesso di questa clamorosa di questo clamoroso ultimo posto di ding che è insomma è triste effettivamente visto che lui è simpatico c'è stata per chi appunto ieri ha lasciato la trasmissione troppo presso e c'è stato un colpo di scena finale in cui nagamura è stato eliminato all'ultimo secondo possibile immaginabile ha perso l'ultima partita nagamura tra l'altro ha perso con shankland il quale quindi stessa nazionalità gli ha tolto il gusto di poter partecipare di poter andare avanti in questo torneo e qui tra quelli che diciamo oltre a naka quelli che è ding che come dici tu che comunque non è proprio più veloce c'è nepo che poteva aspirare a rientrare nei primi 8 sì nepo è stata una bella delusione direi no perché lui è veramente fatto per il gioco rapid veramente fortissimo e soprattutto diciamo che anche nelle partite classiche consuma lo stesso tempo che consuma nelle nelle rapid perché anche nelle lampo probabilmente spesso perché lui è famoso per essere uno dei giocatori che muovono senza senza pensare granché no fa mosse che gli vengono naturali un talento assoluto e di solito nel gioco rapid fa molto meglio infatti è andato maluccio e ok allora senti dimmi un attimo tu che vuoi fare adesso vuoi vedere la rivincita di ghiri o vuoi vedere qualcun altro beh in effetti è l'unica partita in cui non hanno vinto continuiamo a seguire forse la karsen dubov però no che forse è quella più infiammata sì scusa infatti volevo dire dubov solo che sto stavo dunque sì 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 che io sono sono d'accordo anzi vi faccio anche vedere un'altra cosa adesso perché così vediamo un po di voglio farvi vedere soltanto come così per divertimento qual è la situazione attuale con una con una schermata unica di tutti i giocatori così ci divertiamo un po senti ma a questo punto però effettivamente dubov è tutta in salita che dici sì sicuramente nel senso che non gli sarà assolutamente facile karsen in vantaggio adesso fortunatamente ancora due bianchi quindi qualche chance extra ce l'ha però karsen vederlo perdere con il bianco nel momento in cui vuole giocare per far patta non ce lo vedo proprio quindi ha sostanzialmente assolutamente bisogno di vincere la prossima partita perché giocare l'ultima partita è vero che al bianco ma giocarla per essere una situazione di must win non è assolutamente l'ideale quindi secondo me gran parte del risultato di questo match si giocherà nella seconda partita ma si adesso deve spingere intanto vedete qual è la situazione così vi rendete anche conto di fra quanto tempo inizieranno le partite ma proprio perché ho letto la chat effettivamente ho letto quello che stava succedendo stanno per partire no? si si ma non sono ancora partiti qua vediamo una scacchiera in diretta e poi vediamo tutti che si muovono si alzano si agitano quindi ancora non è sicuro quello che è e poi dovrebbe partire fra un minuto no? perché dovrebbe partire alle 17 precise si ci chiedono dove prendiamo le webcam dei giocatori sono tutti in una videochiamata zoom no ma adesso è cambiato è cambiato è cambiato tutto c'è un nuovo sistema che infatti si utilizza adesso e per quello che ok ok diventa un po' più diciamo noi abbiamo è stato appena cambiato il sistema e quindi vedete questo comunque perché ha una definizione spaventosa quindi immagino che parecchio costoso si vedete quanto è grosso Carlsen ve lo faccio vedere in super super grande così diciamo ce lo godiamo di più adesso lo vado a prendere mentre siamo prontissimi per vedere per vedere la prossima partita allora dai facciamo un toto apertura ma è quattro penso 99 per cento no? daniel gioca e quattro e hai sbagliato è di quattro va bene vediamo che idea avrà cosa gli cosa ha deciso di giocare ma lui ha già giocato D4 Dubov contro Carlsen gioca sempre D4 cioè almeno io a memoria gli ultimi che mi ricordo tutte D4 sono state forse sì forse con Carlsen hai ragione non ci ho pensato a questo dettaglio tipicamente è un giocatore più dai quattro Dubov no? o comunque la posizione è estremamente dinamica qui tra l'altro la scelta di andare verso una catalana più o meno non la vedo come molto soddisfacente per per daniel i loro precedenti mi pare che siano così cioè loro giocano giocano praticamente questo giocano così questa apertura qua ovviamente ma ehm vabbè ok qui finora siamo in territorio estremamente principale direi ehm quindi non molto da da commentare in questo momento tema vuoi scorrere intanto velocemente sulle altre così vediamo come sono partite vediamo come sono partite allora dunque Aronian Varsella Grav però poi dopo ci starei poco perché secondo me tutto il nostro pubblico vuole vedere Carlsen Dubov quindi io siccome vabbè questa è una Grunfeld comunque quindi abbastanza principale fino adesso questa è lenta questa è lenta 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 no? quindi questa sarà estremamente cioè in realtà potrebbe essere molto molto interessante solamente che non adatta a un gioco rapido da commentare e poi abbiamo questa che è praticamente una struttura casbata in cui però il nero ha l'impiccio del cavallo c6 in questo tipo di apertura praticamente sia sia il bianco a una donna mal posizionata e anche il cavallo del nero è mal posizionato quindi è un'apertura che si gioca per mettere male i pezzi all'avversario ma torniamo subito alla nostra partita clou che sarà quella preferita da tutti quindi Dubov-Karsen Dubov che quasi quasi deve vincere però attenzione ricordiamo a tutti voi che siete qua che oggi è il primo giorno e giocano quattro partite rapide e si gioca il match di oggi però anche se Dubov dovesse perdere o Karsen dovesse perdere domani c'è la rivincita quindi non è che stanno proprio con l'acqua alla gola in questo momento sicuramente Karsen è messo molto bene per questa però ha vinto col bianco insomma ci sta basta Dubov basta vincere una partita e si riprende ma parlando di quello che sta succedendo concretamente penso che tendenzialmente sia la classica posizione con questo tipo di struttura leggerissimo bianco ma veramente leggerissimo il nero può decidere di giocarla in diversi modi può giocarla estremamente solida quindi con una C6 e giocare successivamente per creare qualcosa sul lato di re oppure può andare verso una C5 con l'idea di un'espansione centrale ed entrare nella classica struttura dei pedoni sospesi e l'unica cosa che un po' mi mette in dubbio è la scelta di fare prima cavallo E5 nel senso che tendenzialmente il nero vuole fare alfiere F8 perché il suo alfiere sta meglio in F8 rispetto che in D6 quindi nel momento in cui fai un A3 l'alfiere in D6 è un po' piazzato male nei casi in cui vuoi giocare per C5 perché a quel punto il pedone D5 diventa più debole la donna, diciamo, connette un po' di meno mentre l'alfiere in D6 sta abbastanza bene col piano di C6 se avesse fatto A3 un po' prima di Torre 8 avrebbe costretto alfiere D6 invece in questo caso ok, adesso ha deciso di giocare proprio senza A3 però l'alfiere in F8 comunque sta abbastanza bene io quella A3 ce l'avrei messa di mezzo intanto confermo, ragazzi, quello che vi ha già detto il nostro amico in chat ossia sono quattro partite al giorno quindi oggi quattro, domani altre quattro e solo in caso di due pari ci sarà l'Armageddon e tutte le altre partite sono finite con la parità tra cui quella di Rajabov e Nicolò si è accorto che aveva posizione vinta ma non l'ha colta e quindi l'unico a aver vinto è stato Karsen il quale subito si è un po' tranquillizzato perché non vinceva da un bel po' contro Duvov ma non è detto intanto C5 è arrivata noi possiamo far vedere che contro il sistema con i eventuali pedoni sospesi dico eventuali perché dopo una cattura qui sarebbero i pedoni sospesi il bianco ha molto ben posizionato un alfiere G2 e in relazione a quello che dicevi tu prima ossia parlavi di un alfiere G6 c'è da dire che questo sistema qui il bianco si è anche ben posizionato per l'impatto contro l'alfiere G6 infatti in quella struttura l'alfiere sta meglio in F8 allora adesso però è diventata un pedone isolato un po' bizzarro perché il bianco che comunque dovrà puntare a questa casa si ritrova anche un pedone lì secondo me il pedone lì è come se non ci fosse nel senso che intanto di 4 ci si andrà presumo ah sì quello sicuramente c'è da vedere se però si può ottenere un vantaggio queste sono le classiche posizioni in cui in realtà il nero non ha alcun tipo di problema cioè un nero Carson non ce lo vedo proprio a perdere un pedone isolato di questo tipo infatti sceglie subito di scambiare qualche pezzo anzi tra l'altro adesso può anche giocare il D3 no? sì in linea con quello che tu dici io ti devo raccontare che ho osservato in occasione di queste dirette che il Carson gioca veramente molto spesso ho trovato una cosa interessante sul fatto che il Carson giochi spesso il pedone isolato ma non si... dunque facciamo il punto noi sempre diciamo no? anche a tutti quelli che stanno imparando no? che col pedone isolato facciamo finta ragazzi non guardate il pedone D4 facciamo finta che non ci sia col pedone isolato cioè il nero adesso possiede il pedone isolato siccome non si può andare in finale con questo pedonaccio così dovete tenere i pezzi e sto notando che il Carson molto spesso allegramente li cambia e riesce a reggere lo stesso gli rimane un cavallo con la donna e riesce a reggere cosa che un filetto mi sorprende pure perché quando vuole giocare per la patta gioca molto bene reggendo così ma diciamo che il pedone isolato in realtà è veramente difficile perderlo anche nel momento in cui ti avvicini verso un finale i temi sono abbastanza chiari nei finali di torri è abbastanza semplice spesso puoi semplicemente dare il pedone isolato e giocare con il pedone in meno compensato dall'attività cioè di solito ad esempio se c'è tanta pressione sul pedone D quindi puoi semplicemente abbandonarlo per entrare magari in seconda e guadagnare attività quindi in realtà è un ottimo tentativo di pareggiare il pedone isolato volendo però hai visto che Carson come dicevi tu l'ha restituito perché farsela sfuggire se è possibile farla per non averla più adesso la posizione da cosa è caratterizzata da una prevalenza dei neri per lo spazio mi aspetta D4 no tra l'altro è una prevalenza dei neri per lo spazio e una prevalenza del bianco per una coppia degli alfieri che la posizione è aperta eccetera però effettivamente il nero ha i pezzi messi un po' meglio sì D4 è arrivata prende più spazio adesso l'unico pezzo che è un po' triste è l'alfiere in B7 che se avessi in F5 sarei la persona più contenta del mondo però diciamo che anche in B7 con qualche idea di alfiere A6 sicuramente non sta male allora intatto io stavo cercando di fare qualche disegnetto per mostrare che il bianco non è così soddisfatto di questo fatto di avere la coppia degli alfieri perché tutto sommato se guardiamo ha un po' di difficoltà nel trovare una collocazione alfiere C1 perché in G5 dopo eventualmente un H6 non riesce a tenerlo e se va in F4 è sempre esposto ai salti di cavallo vedete che non ha i rientri quindi in effetti questo alfiere è un po' intruppato allora verrebbe in mente di fare A3 e B4 ma c'è una grave controindicazione nella variante A3 e B4 lascia un buco pazzesco in C3 cosa che io direi che è assolutamente da evitare quindi a te piace più il nero mi pare di aver capito tendenzialmente non ho ancora un giudizio chiaro su chi mi piace di più però diciamo che quello con più possibilità dinamiche sembra il nero in questo momento allora ti faccio una sguicciatina qua perché è successa una cosa che noi facciamo sempre vedere nei workshop ossia esattamente questa struttura facciamo una pillolina anzi anzi scusa io non ho un accordo con lo sponsor che mi dice che devo mettere la pillolina quando vi faccio la pillolina strategica sulle strutture volevo dire questo che i nostri amici che hanno già fatto i workshop con me insomma questo lo sanno a memoria molto spesso in questa struttura che si chiama Karlsbad voi potete anche scegliere se chiamarla Karlsbad oppure Karlsbad noti la differenza fondamentale l'ho detta la prima volta col K la seconda volta con la C ok? diciamo in lingua originale della col K allora molto spesso si gioca questa avanzata che è l'avanzata della classica attacco di minoranza però succede questa cosa che nel momento in cui voi giocate a4 nel momento in cui giocate a4 vi private della possibilità di saltare col cavallo in C5 allora ricordatevi che è buona regola prima di giocare a4 e poi in B5 di portare il cavallo in A4 e in C5 e vedete che Rajabov che ha fatto ovviamente il workshop con noi sa benissimo questa cosa e sa che zompa in A4 zompa in C5 e poi adesso preparerà la spinta in B5 se ci arriva dall'altra parte il nero gioca, questo è anche molto interessante dall'altra parte il nero gioca un classico attacco qua sopra che vedete che reagisce con G3 in bianco e qui io vi posso dare un altro input che è importante il motivo per il quale in questa struttura non è molto sano giocare la mossa H3 perché siccome c'è un alfiere in C8 che arriva come una spada qua sopra una volta ho fatto vedere una pillolina della partita di Kramnik proprio qua su C6204 considerate che questo alfiere C8 è molto potente contro l'arrocco quindi immaginate che con H3 vi arriva lì un sacrificio pazzesco che vi sgredola tutto tanto è vero che furbescamente Rajabov non ce l'ha messo il pedone in H3 e vedi che arriva lo stesso l'alfiere in H3 qui il nero c'ha... è bella questa però eh? Sì, diciamo che tendenzialmente sono un po' sorpreso dalla gestione di Anish di questo tipo di posizioni nel senso che da lui mi sarei aspettato un altro approccio che è quello più posizionale però sì assolutamente questo è uno dei due modi in cui il nero può procedere in questo tipo di posizioni il primo è quello di giocarla tra virgolette in maniera più posizionale quindi magari di giocare per un eventuale B5 cavallo D6, cavallo C4 e quindi di stabilire anche lui un forte controllo della casa C questo prima del cambio in E5 ovviamente tutto si intende invece Anish è andato per un gioco molto diretto quindi ci sta assolutamente modo semplicemente diverso di trattare la posizione è anche più tipico volendolo ok, sì, questo è molto tipico comunque state sempre attenti qui si vede anche un'altra caratteristica della struttura Casbard A FG4 ottimo A FG4 cerca di utilizzare queste case deboli sul re in questo momento il bianco sta un po' soffrendo il fatto che il cavallo in C5 sia abbastanza lontano dal proprio re vedete che c'è il re lì che si vede benissimo e dice ma da chiacchia perché quello si è andato lontanissimo però anche il re stesso è abbastanza soddisfatto e tranquillo perché lui è abituato a giocare così cioè qui abbiamo un re il re il cosiddetto re della Casbard che è un po' abituato e assomiglia molto questo è un amico del re dell'est indiana col bianco sono abituati a tutti i pezzi in faccia e sanno che possono resistere in realtà è tipico della Casbard riuscire a difendere queste case qui normalmente soltanto con un pezzo cioè o c'è un cavallo in G1 che difende H2 o c'è un alfiere che difende G2 H3 il bianco fa una grossa economia in difesa e si ritrova spesso tre pezzi del nero in faccia più probabilmente un pedone che arriva più anche probabilmente una torre che arriva e non è detto che lui soltanto con i pedoni che c'ha qui e con un pezzo riesca a difendersi e qui vediamo se ce la farà quindi è molto interessante non ce la perdiamo anzi io ti devo dire che mi piace più questa di quella di Carlsen ma siccome il big match è il big match abbastanza incasinato guarda il big match e che com'è successo che è esattamente quello che avevamo detto noi cioè la sofferenza del fiere in G5 e quindi la sofferenza di non riuscire a dare potenza a questa coppia degli alfieri sì, io l'avrei provocata quella H6 sai cioè al posto ok, cavallo D5 non mi è ben chiaro perché l'alfiere si è andato subito in D2 cioè l'alfiere G5 era gratis no? l'alfiere G5 dirà vabbè noi togliamo la donna e c'hai un alfiere qui sì 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 il mio punto era che io sono felice di farti fare H6 ma io non la faccio, ti lascio l'alfiere lì eh ma allora è felice di essere sviluppato però c'è cavallo A5 che ne so sì guardavo qualche donna B3 cavallo A5 forse qua posso semplicemente fare donna A4 e tutto sommato non mi dispiace Bianco uuuuuh ok Karsen spara a Dubov un cavallo A3 wow scintille meno male che siamo tornati qua ehm ok allora facciamo subito vedere che cosa succede se si prende di pedone ovviamente si cattura di torre perché no sto scherzando si cattura di pedone che minaccia sia D2 che D2 volevo fare un po' di cosa così per ridere un po' no ogni tanto ci sta così il commentatore è sbilanciato oddio ha detto una gretinata mo che faccio glielo dico in diretta non glielo dico carlo guarda che forse vuole aprire di pedone e quindi qua che si fa? penso che le mosse siano due o alfiere per E3 o torre 1 no? direi si però vabbè alfiere per E3 sembra più naturale alfiere per E3 torre per E3 D4 e sembra più comodo per il nero allora però aspetta più naturale perché tu vuoi tenere la torre sulla F che ti piace F7 no perché voglio essere già pronto a fare D4 vuoi essere pronto a fare D4 allora abbiamo 5 pedoni per 1 a me piace più chi ti piace più qua? ah piacermi di più mi piace sicuramente di più il nero cioè qua è palese che il nero ok palese magari è un po' esagerato ma sicuramente siamo nella zona in cui se è pari è per miracolo nel senso che molto probabilmente sta meglio il nero però sta meglio il nero anche per quella cosa che noi abbiamo detto prima vedete quanto poco basta per decifrare una posizione poi chiaramente va sempre controllato tutto perché poi il bianco potrebbe avere degli scherzi qua sopra che rompono le scale sì sì assolutamente però qua c'è una grossa debolezza delle case nere il pedone D4 è debole la torre attiva l'unica cosa un po' fastidiosa probabilmente è quell'alfiere in B7 quella diagonale che non mi convince troppo ma ho anche delle alfiere A6 se necessario per levarmi proprio in un colpo solo torre C8 e diciamo che i pezzi si attivano abbastanza velocemente anche donna D7 torre 8 ok ma comunque qui secondo me è sufficiente per valutare la posizione ricollegarci a quello che abbiamo detto prima noi prima che abbiamo detto abbiamo detto col pedone isolato ci vuoi in un sacco di pezzi il bianco ce n'ha solo due però un pedone isolato normale no? questo è un pedone isolato passato sì ho capito certo però sono finiti i pezzi quindi nel senso che probabilmente se il nero vuole se ne vanno anche gli alfieri e quindi tutto quanto si riduce a valutare la potenza di questo pedone D5 cioè noi adesso come dice Nicolò questo pedone D5 secondo me non lo so fammi pensare non so se serva tanto a legare come spesso avviene a legare la posizione dei pezzi neri per attaccare sull'arrocco perché qui abbiamo l'alfiere in G2 invece che in D3 no assolutamente quindi siamo d'accordo vedete come cerchiamo insieme di capire le cose insieme anche a voi del pubblico siamo d'accordo che il bianco dovrebbe puntare sul pedone D però se il nero riesce efficacemente a bloccarlo non ha proprio molte chance le falce che ci dicono? come dicevo più che altro il punto qui è che è un pedone isolato passato e questo è un dettaglio importante non tanto perché il pedone è passato ma più che altro perché per essere passato abbiamo scambiato due pedoni che sono il pedone E del nero con il pedone F del bianco no? cioè immaginati una classica struttura di pedone isolato nella classica struttura di pedone isolato il bianco avrebbe il pedone F2 e il nero avrebbe il pedone E6 e adesso basta chiedersi quale dei due pedoni è meglio è chiaramente meglio il pedone in F2 no? nel 99% dei casi perché è vero che quel pedone D è un pedone passato adesso ma ora che lo spingi ha voglia e allo stesso tempo il pedone F2 invece è un pedone che è importante avere subito perché è un pedone che copre le case scure che che ti dà una certa sicurezza sul re in più il pedone E ti darebbe il fatto che la colonna sarebbe una colonna chiusa no? però il fatto che la colonna E sia una colonna aperta ti permette anche più semplicemente di scambiare i pezzi quindi donna di 7 torre 8 no? e quindi ti permette di attivarti di più col nero cosa che di solito è quello che il bianco non ti permette di fare nella classica struttura del pedone isolato proprio perché hai una colonna in meno tra virgolette no? perché la colonna D c'è sempre il pedone D e finisci per avere o la C o la E che sono chiuse allora intanto vedi che ha giocato una cosa diversa da quella che... ha giocato l'altro ordine no? ok non torre 1 non alfiere per E3 ma comunque ha scelto una mossa in cui non si prende E2 diciamo però dunque qui succede che lui ha cambiato anche la torre intanto ti volevo segnalare volevo anche festeggiare diciamo così insieme a te e insieme ai nostri amici che oggi abbiamo superato i 500 wow yeah! facciamo tutti yeah! grazie ragazzi per supportare così le nostre trasmissioni abbiamo superato i 500 penso che sia la prima volta tutto merito dei commenti di Nicolò vedete poi adesso non mi fate che Nicolò se ne va e bene andate tutti che è giusto... poi dopo viene Matteo quindi non mi fate che ve ne andate tutti quando viene Matteo e tutti dicono no Carlo e Matteo non li vogliamo vogliamo Nicolò se no poi dopo comunque dai sto scherzando siamo molto contenti tutti quanti ehm... donna F4 immagino con qualche idea di attivarsi qualche cavallo G5 extra qualche problema in più sulle case F7 magari anche sulla casa H7 però tendenzialmente sembra molto buona per il per il nero no? eh sì ma come... perché adesso cioè questo ha il nero ha un controllo mostruoso sulla casa D4 ci ha messo praticamente tutti i pezzi che ha e quindi il bianco rimane con questo pedone in D3 che praticamente secondo me se ne va comunque lo diciamo perché magari è importante donna per D3 non si può fare c'è cavallo E5 il bianco vince immediatamente no? che il punto è che cavallo per E5 e donna per E5 sto minacciando donna e otto matto devi parare il matto e rimane l'alfiere in B7 impreso che è un dettaglio abbastanza importante se no hai perso un pedone e basta e purtroppo non si possono cambiare le donne per un giochino proprio scemo scemo quindi qua Carlsen lo vediamo estremamente messo bene considerando che Dubov deve vincere questa o comunque tra l'altro deve anche stare attento a non perdere cioè io obiettivamente ma penso che tutti insomma anche qua no? con il bianco qua sarei anche soddisfatto di arginare un pochettino il i rischi e almeno non perdere perché se perde questa va sotto 2 a 0 il match di oggi mi sembra abbastanza andato no? sì assolutamente ma qua non è neanche facile pregiarla questo questa è una delle classiche posizioni che Carlsen potrebbe grindare per ore diciamo no? si mette lì aspetta e vede cosa succede quel pedone D è sempre solo debole anche vero che è una posizione in cui in realtà è abbastanza semplice per il bianco cambiare i pezzi leggeri e anche nel momento in cui cioè nel momento in cui cambi i pezzi leggeri non è così lontana una patta vero è sempre che il pedone F2 è un pedone molto importante non è il classico pedone che dici ah che bello il finale di torri è un pedone in meno ma è un finale di torri allora è patta il pedone F tendenzialmente è uno di quelli più importanti perché nel momento in cui ti manca F hai tutta la seconda che è estremamente debole ed essendo che ci sono pedoni su entrambi i lati non sarebbe neanche una patta così scontata allora intanto gli ho fatto vedere a tutti che Ghiri ha pattato Ghiri e Rajabov hanno pattato anche la seconda quindi sono molto molto compatti il Rajabov chissà se gli hanno detto che ha sbagliato qualcuno oppure se ne è accorto da solo non lo so però adesso stanno ancora tutto da giocare due parti eccetera gli altri stanno giocando e noi rimaniamo qua come vedete Dubov cerca questo è un po' come quello che ho detto prima no? cioè Dubov non può stare fermo ad aspettare se sta fermo ad aspettare perde perché ha una struttura inferiore a parte D3 ma insomma anzi non ha una struttura inferiore allora aspetta aspetta che sto dicendo troppo da insieme ha una struttura inferiore punto questa ci sta ok poi D3 è una schifezza questa ci sta ok anche senza D3 non avrebbe soltanto un pedone in meno ma avrebbe anche una struttura inferiore una posizione inferiore per questa debolezza del re allora gioca H4 che un po' toglie il re da qua ma soprattutto aspetta H4 da un pedone eh è un dettaglio importante perché adesso non c'è più il trucco di cavallo E5 no? sì perché aveva fatto F6 ma probabilmente D3 se ne andava comunque no? ma potevo trovare un modo per difenderlo al posto che darle invece al solito Dubov cerca chance estremamente attive questo è anche un modo per dire probabilmente guarda che anche qua la patta non mi sta bene no? sì io non ho capito come lo fare dunque è attaccavo due volte eh donna C4 ad esempio cosa fai? donna C4 invece che H4 e poi D4 eh dipende cosa fai intanto per cominciare se vai re H8 forse ho donna E6 e non puoi non puoi fare donna per D3 per il matto ovviamente e se cambio le donne sono già più confident di pareggiarla no? e donna D5 non si può giocare? sì ma sto fermo faccio anzi donna D5 in particolare forse te la stai un po' cercando ah se stai fermo che riprendi di pedone sì ok vabbè comunque lui lui forse noi saremo stati un po' più materialisti lui invece gioca sull'attività e si lancia questo è il tipico di Dubov ma noi è proprio da qui che dobbiamo imparare lui ha detto beh quel pedone lì tanto io devo giocare come un farabutto per stare lì a tenere quel pedone tanto alla fine mi aggredisce non devo giocare così devo giocare per cercare di tirare i pezzi in faccia a re in qualche modo non certo con torre 1 di 7 diciamo che è stato un rischio io ho forse non propriamente calcolato questo nel senso che se la sta un po' cercando è in una posizione già di svantaggio è vero che lui è bravo a creare chance però è bravo a creare chance in posizione pari anche in posizione persa è bravissimo a creare chance per l'amor del cielo solo che come è giusto che sia le chance saranno minori perché la posizione tendenzialmente è persa e qua ma lui lo sa il punto è che si sta assumendo un rischio veramente grande io tutta la vita sarei stato per cercare di pareggiarla quella effettivamente però si vede che ha fatto la stessa analisi tra virgolette che avevamo fatto noi prima questa è la prima partita che ha col bianco ma è anche la seconda partita del match se si ritrova a dover vincere l'ultima in una situazione di must win comunque non è una situazione ideale quindi ha preferito buttarsi con questa per darsi una chance in più secondo me ha anche pensato tanto se gioco per tenermi quel pedone senza far niente perdo quindi tanto vale che mi butto vado all in e tanto sto male e vediamo se riesci a tirar fuori qualcosa certo noi diciamo noi dall'alto delle anzi nella nostra situazione diciamo di ricerca di spettacolo dovremmo in teoria di fare che il dubbio faccia qualcosa oddio ti hai inventato qualcosa dici? è che re h8 perde perché c'è donna f7 che è doppio no? c'è la fiera in b7 e quindi devi fare re f8? infatti è giocatore f8 ok re f8 però già re f8 qualche chance effettivamente la dà effettivamente ha pagato il suo il suo gambling in questa situazione eh mo c'ha pure il pedone che rompe le scuole ha pagato tra l'altro l'unico problema uno dei problemi wow cavallo g5 che non si potrebbe adesso adesso ah c'è alfiore per c6 e torre 6 eccetera no? aspetta che già stanno giocando c'è cavallo per h7 e alfiere per b7 cavallo per f6 e alfiere per b7 e non c'è cavallo per b7 mamma mia assolutamente assolutamente no stavo dicendo che sul f8 cavallo g5 scusa non ci posso credere che gli ha tirato questa sola pazzesca e gli ha mangiato cioè addirittura gli ha mangiato due pedoni due pedoni gli ha mangiato? bravo Dubov mamma mia che sola clamorosa ok c'è anche da dire che il pedone h molto probabilmente salteranno vabbè diciamo che tu stessi ben contento di aver trasformato questa posizione assoluto a questa qui mamma mia magico Dubov magicissimo adesso quello che ha chance è Dubov assolutamente è vero che quel cavallo è molto forte e probabilmente compensa per il fatto che il bianco ha ancora un pedone in più però però è ancora estremamente piacevole per il bianco qualche re f2 qua re h6 forse posso anche pensare di fare g4 addirittura una fatica adesso certo effettivamente se se devi stare tutta la partita a guardare questo pedone libero in h5 è veramente problematico quindi colpo di scena incredibile nella partita di Dubov che tutti stanno dando per spacciato e invece ha tirato fuori dal cilindro questa questa piccola combinazione che gli ha consentito di guadagnare due pedoni quindi ha recuperato grande colpo di scena grande colpo di scena assolutamente tra l'altro che non l'abbiamo detto ma f per g5 non si poteva fare per torre f1 se vuoi io torno un po' indietro però non so se è il caso con questo poco tempo lui cazzo è che c'è tre minuti io mi concentrerei più sulla live eh ok qua Dubov scelta piacevole no? il f3 comunque è una posizione che non la perde mai e fa patta subito anzi dio magari può provare a fare qualche mossa ehm g4 è un provarci è un provarci un po' rischioso forse perché i pedoni iniziano ad essere veramente deboli però... però una chance allora diciamo però anche perché guarda vedi io mi metto anche nella posizione di chi magari non è così esperto e e dice ma scusa ma quello c'è un pedone in presa perché non stanno dicendo che è una mossa automatica è una mossa normale la prima cosa che dovete pensare è che è intanto hanno giocato proprio così ok f5 è per pareggiare immediatamente reggi 5 per provare a vincere col nero però diciamo solo questo diciamo solo questo che in un finale del genere l'ultima cosa che voi vorreste fare è mettere questi pedoni sullo stesso povedere alfiere perché automaticamente avesse reso di una debolezza mostruosa tutte le altre case soprattutto f4 e h4 soprattutto queste due queste due qui vedete che invece se voi giocate una cosa del genere a prescindere dal cavallo vedete che questo tipo di conformazione riuscirebbe a controllare in maniera proprio perfetta tutte e quattro le case che stanno davanti quindi per questo motivo g4 non siete felici di giocarla qui come dice nicolò o il nero gioca reggi 5 cercando di si reggi 5 è il tentativo per provare a vincere no? anche col pedone in meno comunque si sta attivando dubito fortemente che abbia davvero chance di vincerla eh assolutamente però è un tentativo se il nero vuole cercare di forzare f5 faccio alfiere f3 il problema che dopo alfiere f3 alfiere f3 ti stai avvicinando a qualche rischio extra di perderla no? ma con che col bianco? sì per quanto improbabile diciamo che qualche chance ce l'hai ma c'ho sempre però non puoi mai cambiare le torri perché mi rimane il pedone sono perfettamente d'accordo vabbè torniamo alla live come minimo cavallo per f3 re per f3 ok aspetta c'è qui l'altro modo che il nero ha utilizzato sfruttando il fatto che il re è molto vicino alla catena dei pedoni ha subito scassato la catena vedete che anche qui c'è l'idea dell'attacco alla catena per indebolirli tutti come vedete dopo questa rottura di catena ambe due i pedoni sono orribili e rischiano di cadere subito uno se lo pappa dopodiché è abbastanza confidente di riuscire a papparsi altri due il problema che ha è che gli è rimasto il cavallo lì non è un problema gigantesco nel momento in cui il bianco non riesce ad attaccarlo perché vedete che se lo attacca così si becca per esempio se giocasse questa si beccherebbe uno scacchino con la torre che rimane in presa quindi non è proprio il massimo anche se si potrebbe proteggere però non ha molto senso e quindi adesso che facciamo? alfiere 4 qua però alfiere 4 alfiere 4 alfiere 4 è stata giocata per difendere il pedone stavo cercando ok si ref4 la più naturale direi ma probabilmente è patta no? allora ref4 anche qua altra cosetta che voi dovete sempre guardare questo è un finale e qui conta tantissimo nel finale la posizione dei re vedete che il re nero è molto più potente del re bianco perché sta in sua quinta traversa mentre il re bianco sta in sua seconda traversa e quindi il re è contento in questo modo sta creando una specie di opposizione nel senso che sta chiudendo il re bianco dalla parte sua è come se lo spingesse vabbè comunque qua torre d6 no? giocato 3 e 5 quando siamo fermi se segui me facciamo prima perché tanto io non mi muovo dalla schiacchiera diciamo così e quindi ok ma dicevo torre d6 pareggiava subito no? ehm l'idea è cavallo per f5 ma 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 mica vorrà tu mica vorrà andare di torre attiva poi mangiare cioè non ce la farà mai a vincere questa qui è completamente pari non può vincere ehm ok ma nel senso se vuole pareggiare fa torre d6 allora vediamo un attimo perché non ha fatto torre d6 se vuole pareggiare fa torre d6 che minaccia cavallo per f5 dici tu? eh giusto no? si e se io lo spingo col pedoncino? eh faccio re e5 e me lo mangio no? fai re e5 e poi se lo spingo fai torre f6 e te lo mangi si cioè se volevo pareggiare col nero questa è subito e quindi tu mi vuoi dire che lui non vuole pareggiare col nero? eh wow vediamo un po' magari vuole magari vuole pareggiare più avanti vuole continuare a giocare qualche mossa allora intanto c'hanno tre minuti per uno tre minuti e venti per carcer con il nero che sta cercando di capire se perché giustamente come sta osservando Nicolò quel pedone in f5 è talmente lontano dai pezzi bianchi che se lo pappa quando più gradisce no? guarda forse l'idea che sto intravedendo potrebbe essere quella di andare verso il pedone b2 esatto torre f8 torre e3 re e5 e e provare torre e3 scusami torre e3 re e5 però re e5 alfiere alfiere a2 non riesco neanche a concepire come ma comunque un'idea come re d5 re c4 e avvicinarsi da quel lato visto che il re del bianco è in f2 è un po' lontano no? re d6 ok re d6 magari esatto più furba così evito lo scacco gratis in a2 ma tieni anche la casa e7 e7 così eh? si tra l'altro anche assolutamente finisce patta ragazzi sta finendo patta c'è un odore di patta immediata ecco la patta immediata e quindi siccome noi abbiamo visto la patta immediata siamo velocissimi e ci andiamo in altra parte velocissimi velocissimi dove ce ne andiamo? qua no qua no perché è una lagna questa qua mi sembra mi sembra completamente vinta per il nero no? ah scusa 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 è vinta per il nero e Arronian ha perso e quindi noi ce ne andiamo quest'altra fin da patta l'unica 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 duda contro so 27 secondi bellissima tre pezzi leggeri questa è una posizione in cui la donna non vuoi averla assolutamente qua qua tutto cioè datemi il nero tutta la vita assolutamente soprattutto con questi tempi non tanto per la posizione ma più per il tempo qui fa veramente paura essere il bianco in questa posizione le cose possono degenerare molto in fretta l'unica l'unica cosa che ha il bianco è se, ma non ce la farà secondo me, però l'unica cosa che avrebbe il bianco è questo pedone se non ha questo pedone è un dramma infatti praticamente non ce l'ha e quindi forse sta cercando semplicemente di tenere sì, qua rischiamo anche di perderla male questa assolutamente intanto posso fare cavallo E5 e piantarti un pezzo in D3 se volessi, cioè proprio peggiore dei casi ce l'ho scusa, prima di tutto vorrei capire perché hai deciso che io so il bianco e tu sei il nero cioè cominciamo al massimo a tirare la monetina in aria perché non mi va ti fai sempre quello che perde però bella, sicuramente questa è bella sì, qua questa è una sofferenza per il bianco abbastanza certo poi per l'amore del cielo magari si pareggia anche abbastanza facile magari addirittura più facile per il magari addirittura meglio per il bianco se la metti su un motore non ne ho la più pallida idea però questa è la tipica posizione che umanamente non puoi giocare con il bianco assolutamente qua la probabilità di sbagliare è altissima e in più penso che volendo il nero possa fare patta su un bianco subito, cavallo E5, cavallo F3 ripetendo spinge in G4 perché dopo non è in presa perché c'è H2 cavallo H2 sì, questa è anche una più o meno un'offerta di patta tra l'altro perché in questa posizione una volta che ho ho tolto il pedone H cioè ok, non un'offerta di patta ma più un bianco non può più vincere cavallo E5 alfiere F3 questa questa il bianco non la vince in nessun caso vabbè ma questo mi sembrava che fosse un dato l'unico dato che avevamo proprio super acquisito intanto ecco che però avevi dato una chance, no? tu avevi detto ah potrebbe vincere se mai il pedone H andasse saltava G6 ah sì 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 però mi sembrava che ok sì era esclusa però era remota qua non ce n'è proprio più di chance, no? non c'è più il pedone passato allora qui triste, triste che si inventa questo bianco? c'è il pedone D che ci possiamo fare qualcosa con questo pedone D o no? ma in realtà dubito perché in qualunque momento il nero volesse pareggiare mette il cavallo in D6 e dice fine partita anche adesso immagino cavallo C4, cavallo D6 sta fermo vabbè comunque Niccolò vi sta dicendo questa cosa per farvi vedere qual è il sistema però diciamo che riteniamo che il nero si è ammazzato si accontenti della patta qui perché può giocare quanto gli pare come ci ha detto Niccolò prima ha un vantaggio notevole che si gioca con questo tempo di riflessione da così da anche qua guarda potrebbe esserci qualche rete di matto sul per il bianco addirittura per il nero addirittura no? alfiere immaginati solo fai due mosse alfiere D8 alfiere G5 e iniziano ad esserci veramente tanti problemi hai il re D3 al pelo e se metto anche un A5 arriva anche cavallo B4 va bene intanto il nero ha fissato una debolezza che è una cosa sempre molto importante e il bianco si ricorda che c'ha pure quest'altro di pedone che può andare a infastidire un pochettino così il nero non ha tutta questa libertà perché se si becca anche un pedone che gioca attivamente cambiano le cose cioè questo pedone come tutti voi sapete ha un obiettivo di andare qua giù e soprattutto in questo caso non tanto di andare qua giù ma di andare a disturbare uno di questi due che servono pezzi che servono a proteggere il re come dicevamo in ogni momento il nero può fare patta mette il cavallo in D6 ed è patta immediatamente il bianco non ha nessun modo di fare progressi proprio nessuno perché il pedone D non va il pedone B è difeso è quello che sta facendo intanto sta facendo questo ma tu dici che lo sta facendo per forza far patta intanto io mi metto là poi vediamo sono pronto alla peggiore delle evenienze vediamo come va però adesso B5 è un po' doppio taglio perché non può più muovere cioè come lo difende in B5? ma volendo di nuovo sempre volendo far patta esatto alfiere B6 alfiere C7 adesso la domanda è sempre posso fare di più? si se ne vai da 6 figurati è anche questa è una buona formazione per far patta volendo col cavallo in D8 ma adesso lui lo può portare anche qui ah no lo può portare scusa è bitato ci sei direttamente qua iniziamo a mangiarci un pedone poi ci pensiamo casca il pedone sono problemi qua se scacchetto scacchetto ma fuggiamo dallo scacco perpetuo vediamo se ci sono scacco perpetuo donna donna scacco sta decidendo se dare scacco in D6 o in E8 o giocare qualcos'altro no mi sa che perpetuo perché non riesco a fuggire cioè ok posso posso parare gli scacchi con l'alfiere o col cavallo ma a quel punto non mangio più di 4 ovviamente no re C8 donna E6 re D8 no a fuggire dal perpetuo purtroppo sembra che non si riesca non mangiando il pedone almeno tra l'altro siamo agli ultimi secondi per entrambi no 30 secondi qui gli ultimi secondi dai Nicolò gli ultimi secondi quando c'è 0 2 1 questo è 30 secondi io sono vecchio dentro ma che vecchio dentro te sei un pischello altro che vecchio dentro le posizioni ho bisogno di un'ora sull'orologio ok sta provando se non altro a fuggire probabilmente sta tentando re D6 D5 C4 cosa che non funzionerà perché qua probabilmente donna F8 pareggio con idea re D5 donna F7 ovviamente se non funzionerà vabbè ci si prova intanto sapete che quando state in queste condizioni ogni volta con 10 secondi ogni volta con 20 secondi ogni volta così ma meno male che ha 10 secondi e meno male che il nero ha inchiodato questo pedone perché se cominciasse anche avanzarlo potrebbero essere dei problemi per il nero così non è facile trovare una collocazione per il re e questo ci fa vedere che il re è vero che ha isolato questo pedone ma non trova più un rifugio adeguato per pararsi dai schiacchi della donna eccetera qui le probabilità sono due o il nero tenta di tornare in A6 sperando in un errore visto il poco tempo 3 o tenta di tornare in A6 o accetta immediatamente la patta oppure prova a un certo punto a coprire gli scacchi di cavallo però dubito fortemente a quel punto che che si abbiano ancora chance donna G6 su re D5 c'è donna G8 ok sta tornando indietro se ne torna casuccia è furbone sta provando a tornare indietro sperando che l'altro sbagli appunto che che non riesca ad avere donna G8 su donna A6 però 44 secondi quindi dubito fortemente che succederà una roba del genere cos'è la linea donna E8 Re B7 donna D7 Re A6 donna C8 patta e quindi probabilmente ok esatto Dolfiere D8 cerca così di di coprire sperando di avere qualche chance ancora ma effettivamente con re così allo scoperto non sembra facile forse con la scelta di fare B5 così affrettata potrebbe essere potrebbe aver avuto più chance senza aver fatto B5 perché il re se non altro era più più al sicuro allora c'è Tung Stefano che ti chiede se stanno scuoiando il cane ma no non lo sta no è semplicemente che il cane è tifoso di Aronian ha visto perché il cane di Nicolò è fortissimo cioè gioca cioè non è fortissimo perché gioca a livello di terza nazionale così prima era più forte giocava è arrivato quasi il 1700 ora è un po' più moscio e arriva a D5 D5 ha detto io te lo spingo sto pedone sì 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 però con calma perché qua salta qualcosa salta qualcosa sicuramente salta pure sia B4 che F2 sono in presa quindi qua attenzione 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 ok 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 forse ancora qualche perpetuo qualche chance di perpetuo almeno perché non si è mangiato F2? perché c'è paura che questo se ne va da donna col pedone forse non lo so ma non fa in tempo no? D7 alfiere H4 e poi cavallo C6 ah forse quella è una fortezza perché cioè una fortezza al contrario scacco parata di scacco con scacco sì però non mi piace dove sta andando questa cosa quel pedone in D6 adesso è troppo forte non mi piace come ha messo i pezzi no ha perso ha perso completamente la coordinazione qua è facile commentare la casa ovviamente in partita è estremamente più difficile coordinare i pezzi soprattutto con quel tempo però però qua è andata non penso che la possa più vincere con i pezzi come sono messi adesso almeno donna 2 ok a causa ha vinto il bianco ma non ci credo che ha lasciato in questo modo così stupido il pedone non ci posso credere dalla faccia di sola ha proprio lasciato in presa sì e adesso il bianco si trova il pedone D6 vicinissimo all'incredibile è incredibile l'errore di Dso ha qualche chance di creare una fortezza se riesce a mangiare D6 perché cavallo alfiere pedone a volte creano fortezza ma non so se questa è una di quelle posizioni vabbè D6 è praticamente impossibile mangiare però è l'unica se non mangio D6 è perso e basta ma come te lo mangi D6 sta su casa nera tu non c'hai più alfiere nero sono perfettamente d'accordo io sto dicendo come può provare a pareggiare adesso mamma mia è proprio è proprio andata sì lui sta cercando di fare la fortezza con cavallo dunque adesso vediamo un po' il pedone G4 l'abbiamo regalato diciamo così cerchiamo ma è impossibile di creare una fortezza con cavallo alfiere che è fattibile col pedone il problema però è che c'è questo che va a donna e quindi secondo me è impossibile però vediamo un po' scacchetto è un problema perché adesso io mangio volendo mangio non so se dicono subitano ma mangio in G4 minacciando no non minaccio D7 perché poi tu fai Rc7 e rischi di mangiartelo sì ma anche lì andrebbe bene no? perché fai D8 rapper D8 donna G5 scacco e mangino 5 bravo questa è bellissima perché lui dice ma che mi importa a me io faccio donna C7 D7 quello è il problema principale di solito il fatto che appunto con il pedone D6 hai troppe debolezze comunque anche donna per G4 andava bene no? perché come dicevi tu D7 Rc7 c'era D8 donna re per D8 donna G5 scacco seguita da donna per A5 e poi il finale è vinto facile vediamo l'unica chance del nero è buttarsi comunque questo è un risultato clamoroso tra l'altro ok siamo nella prima giornata sì sì assolutamente questa è stata una botta di sfortuna incredibile per Wesley forse è una specie di andarsene corre qui non ce la farà mai perché tra l'altro questo è troppo lontano dalla promozione non c'è fortezza con questi pezzi non ci sono modi infatti abbandonati finita mamma mia mamma mia wow che risultato clamoroso veramente clamoroso ma anche se avesse tenuto l'alfiere sarebbe stato nella maggior parte dei casi vinta per il bianco no perché cavallo alfiere contro donna è vinta per la donna e cavallo alfiere pedone contro donna se non sbaglio c'è tipo una sola fortezza o un paio di idee di fortezze ma veramente difficili da creare e soprattutto con questo tempo 100% perso e questo vuol dire che vedi che anche loro combinano ogni tanto qualche guaiuccio mica solo noi sì assolutamente no qua svista completa si riparte direi cosa è successo invece l'unica che non abbiamo proprio visto cioè ok ci siamo fermati in mezzo al casino la Giri Rajabov mo ti faccio vedere un po' tutto intanto però quello che volevo mostrare era la classifica cioè la classifica più che la classifica la la situazione che è questa qui quindi con solo un risultato in parità Giri e Rajabov che era l'unico tra l'altro in cui Rajabov poteva stare poteva andare in vantaggio come ci ha fatto vedere Nicolo prima quindi questa è la classifica perché sai che c'è sempre qualcuno che arriva magari hanno fatto c'è stato un perpetuo allora ma noi alla partita di Giri e Rajabov l'abbiamo vista era quella sì 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 no non avevo visto il finale ok era quella in cui dopo aver giocato cambiato gli alfieri in G4 vedete che cosa succede che paradossalmente adesso come dicevo io prima che il bianco fa molta economia e utilizza un pezzo solo addirittura qui si difende senza pezzi senza pezzi e si e il nero si prende il perpetuo perché vedete che non può mangiare il pedone sennò lascerebbe il cavallo in presa riesce a fare donna G6 RF1 cavallo F3 e patta 3G2 cavallo H4 beh l'attacco del nero non c'è più quindi non essendoci più dall'altra parte il nero non vuole aspettare che il bianco sfondi tutto di qua e ci sta che si prende la patta ci sta perfettamente forse qualche idea purtroppo non siamo in tempo però se tipo su B6 il bianco fosse obbligato a fare cavallo per A6 magari potrei tentare qualche donna E4 però su B6 è già il cavallo eh lo so infatti ho detto nell'unico caso in cui su B6 obblighiamo a fare cavallo per A6 o comunque una buona mossa che non sia re per F3 qualche chance con donna E4 potrebbe anche avercela però no l'altra idea potrebbe essere fare D4 ma e per D cavallo ah no tra l'altro scusa c'è la torre in D1 non l'avevo vista niente neanche patta e basta va bene quindi facciamo una cosa allora intanto qui l'abbiamo vista la cosa vi mando un altro facciamo un'altra piccola pausina con con sempre uno dei dei video dei nostri sponsor questo è Herthings per gli uffici di Allora intanto vi ho messo con un'interruzione del video abbastanza bruschetto però vabbè Vi ho messo questa grafica che penso sia simpatica e vi fa vedere ogni tanto io ridico le stesse cose perché c'è gente ovviamente che entra adesso che alle 3 non c'era Questo è simpatico, vi potete guardare un pochettino dove sono messi i giocatori e dove erano messi anche i giocatori tutti quanti quando hanno giocato Comunque rispondo un attimo alla chat Vai 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 rispondi, su quale partita vuoi che ti metta il grafico? Non serve, era proprio il finale di re alfiere cavallo contro donna e qualcuno ha scritto che nella pratica è impossibile da raggiungere ma che in realtà secondo loro re a8 alfiere b7 cavallo in c6 sarebbe una fortezza Ma in realtà non è una fortezza, il bianco la rompe abbastanza facilmente infatti anche solo se prendete i table base e lo mettete velocemente si vede che è vinta per il bianco Re alfiere cavallo contro donna è sempre persa salvo casi particolari che c'è un doppio e quindi diventa vinta per il nero o qualcosa del genere 99% delle volte è persa in sostanza salvo doppi o studi vari ma non si riesce a fare la fortezza Tra l'altro appunto se avete dubbi su un certo finale in cui pensate che ci possano essere delle fortezze come appunto un finale del genere Basta prendere il table base, mettere una qualunque posizione di quel tipo di finale oppure la posizione esatta in cui pensate di avere la fortezza e di girare un po' e fare qualche mossa semplicemente Perché il table base vi dà questa conferma Tra quanto dovrebbero iniziare? Adesso Ah sono già partite Vashay Aronian e Anish Rajabov sono già partiti Allora sì E4 Partiti in questo secondo Però loro sono più avanti Vediamo questa che è più avanti dai Sì Aspetta vediamo questa te la devo pure mentre giustamente perché no non si vede Eh rapido Partiamo da zero maybe che Vabbè ok Giusto per vedere come è andata no? Allora sicilianissima aperta con D4 E arriva E5 immediata Una Kalashnikov Una Kalashnikov Tutti contenti quando diciamo questi nomi Invece di essere la Pelican e la Kalashnikov E la differenza La guardiamo un po' Pochi giorni fa E che mancano questi due cavalli Si può ancora rientrare no? Si può giocare cavallo F6 Assolutamente È un modo per rientrare Intanto il bianco l'ha giocata a cavallo C3 E quindi diciamo che il modo per rientrare sarebbe fare cavallo F6 Cavallo F6 consente l'inchiodatura e ritarda la mossa F5 E per adesso La Kalashnikov pura Hanno continuato così Anche qui si può rientrare però Però vediamo un po' invece di giocarci qua Esatto Anche qua si poteva ancora rientrare con alfiere G5 Se non sbaglio Si Assolutamente Alfiere G5 Alfiere G7 Ok non ho la certezza assoluta Perché forse c'è B4 Sono un attimo confuso Ma dovrebbe B4 cavallo C4 sembra ottima Certo No intendo senza alfiere G5 Ok senza alfiere G7 Però dubito fortemente che C'è cavallo C4 sembra orribile questa cosa Quindi Penso Una brutta deviazione sarebbe Alfiere G7 Rientravano Questa rientravano Allora visto che tu mi hai condotto qui Non è che mi hai condotto qui Per passarci Rimaniamoci un secondo No 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 vai 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 Ok allora diciamo un po' che questa Vedete che qui potete avere l'impressione Per esempio del bianco si voglia prendere La coppia degli alfieri immediatamente Così che è bello Wow ci abbiamo la coppia degli alfieri Ma invece in questo tipo di posizione Vi dovete focalizzare su un'altra cosa Adesso vi metto anche le webcam però Perché la casa chiave Non è D6 Ma è invece D5 Infatti se voi la pensate così Qual è il pezzo che controlla D5 del nero? Il cavallo in F6 Qual è il pezzo che non controlla D5 del bianco? Alfiere G5 Che controlla indirettamente G5 Vedete che con questo tipo di cambio Il bianco cede un suo pezzo che controlla D5 Per un pezzo che non controlla D5 Invece siccome l'obiettivo del bianco è tutto un altro Lui cambia in questo caso l'alfiere Qua si può riprendere anche di pedone Ma non ci interessa adesso voglio far vedere Che il bianco mantiene un pezzo che controlla D5 E il suo obiettivo No, non così Ma il suo obiettivo è di tornare Aspetta che sto facendo un impiccio Il suo obiettivo è di tornare a rafforzare D5 In questo modo qua E quindi ha eliminato un pezzo Quindi vedete che si gioca al contrario Rispetto al principio della coppia degli alfieri Ma dopo aver detto queste cose bellissime sulla struttura Invece C4 è giocata dal bianco Che va incontro a questa posposizione di mossa Che ha giocato il nero Perché di solito il bianco mette il pedone in C3 Per trovare una fuga col cavallo Ma qui gioca C4 Sì, tra l'altro sono più o meno rientrati in qualcosa di abbastanza noto Simile comunque Allora, qui però vedi che qui in effetti Il bianco ha ragionato diversamente Loro potrebbero dire Eh, però ha fatto esattamente l'opposto quello che hai detto tu Ma la posizione è diversa Perché adesso la casa D5 è straprotetta Straconsolitata E quindi il bianco decide di mangiare in E7 Vediamo un po' come va E poi adesso andrà di nuovo in D5 Infatti è alfiere D6 che guarda D5 E il cambio avviene lo stesso Adesso si pappa il pedone in D6 Non so se tu qua conosci la teoria Attivazione mostruosa del nero O temo di essere fuori semplicemente Non mi è mai capitato di analizzare questa roba Sembra che ci sia pieno compenso comunque, no? Cavallo D5, alfiere per D5 Donna per F6, G per F6, E per D5 Re D7 Ho qualche idea di E4 Qualche F5 Dovrebbe essere compenso pieno Tra l'altro Cavallo D5 potrebbe anche finire molto male Sì, no, no Abbastanza convinto che questa vada bene Per il nero Beh, è un'attivazione pazzesca L'unico problema è il re che è rimasto lì Se il re fosse arroccato non ci sarebbero dubbi Allora, ma qua C'è da vedere qualcosa di specifico Ad esempio a Rocco, torre C6 C'è da vedere se hai qualche problema di troppo sulla donna Sostanzialmente, no? Dimmi se sei interessato comunque a rimanere concentrato sulla Cars & Duv Vai, vai Switch a piacere Ok, allora Intanto switcho Perché è appena cominciata Quindi questa potrebbe essere interessante seguirla dall'inizio Tra l'altro vorrei vedere Dubov rigiocare l'apertura che ha giocato l'altra volta Karyakin Semifinale O era Kramnik, non mi ricordo più in questo momento Nella finale russa E invece non l'ha più giocata Veramente una tristezza Dunque Dubov ancora non è alla scacchiera Sì, c'è un Carson in attesa Adesso è alla scacchiera anche Dubov E muove E gioca a D5 Ok Scelta particolare da parte di Dani Soprattutto visto che Carson è abbastanza esperto di Scandinava Quindi non mi sembra la scelta più saggia del mondo ma va bene Tanto più che di solito Carson è quello che gioca la Scandinava nel momento in cui vuole Fare un po' di casino diciamo Eh beh, lui avrà detto Ma scusa, se la gioca a Carson Ti pare che non la posso giocare io Ma poi ci siamo anche preparati insieme Giustamente Ok, qua ci sono diversi modi per ottenere vantaggio col bianco Tra l'altro Quindi Ripeto, scelta particolare Se non altro Vabbè, comunque lui qualcosa di stranetto deve fare A parte che loro hanno tutta la loro preparazione Poi figurati se non lo sa Dubov, no? Che è quello che è giusto fare qua Per sorprenderlo Per trovare qualcosa di Ah no, assolutamente Mi sorprende solamente il fatto che Ok, appunto Essendo che si conoscono Hanno discusso delle cose È possibilissimo che abbia qualcosa di particolare Sulla preparazione specifica di Carson Non solo che qua ci sono veramente tanti modi Per andare in vantaggio del bianco Uno è cavallo B5 L'altro era di giocare D5 Passando a un gioco molto più concreto E niente Semplicemente molto più piacevole per il bianco questa Adesso Donna D8 Alfiere F4 Cavallo D5 Alfiere G3 Questa è la linea principale E il bianco Semplicemente riuscirà a mettere a un certo punto C4 Oppure a svilupparsi molto velocemente Non piacevole per il nero di solito CX ci dice che Dubov Vedi che ora che vedono anche le telecamere Qui che si fa D5 o Alfiere F4 Eh, qua si fa D5 Scusate Qua si fa Alfiere F4 Di solito Almeno Io nel file ho Alfiere F4 Poi non ho idea di quale sia la più giocata Essere onesto Forse C4 è la più giocata qua Ma io ti direi forse conviene anche switchare un pochino, no? Perché sembra che si stiano prendendo il loro tempo Vuoi switchare? Ok Sembra che si stiano prendendo il loro tempo E stiano andando molto con calma, no? Tra l'altro, ok Un'unica cosa che mi, tra virgolette, preme dire Che di solito Al posto di cavallo C6 si gioca A6 Con l'idea di impedire questa cavallo B5, no? Quindi appunto Il cavallo C6 è considerato una linea minore Di una linea minore Di una linea minore Quindi un motivo ci sarà Poi magari Dubov ha un'idea nuova e geniale Di cui nessuno ha conoscenza Quindi ho sempre fiducia in lui Però quando fa queste cose è un po' di meno Beh, qui però dobbiamo vedere che si è inventato Per esempio adesso la cosa più spontanea Sarebbe giocare Alfiere F4 per attacchiare C7 Sì, Alfiere F4, cavallo D5, Alfiere G3 E poi arriverà C4 che prende spazio Di solito, sì A6 penso che qui Perché questa c'ha un senso, no? Perché adesso noi abbiamo un po' sbrindellato il cavallo Giochiamo a6 e se lui torna gli doppiamo i pedoni Forse, eh, non so Ma con la doppiatura non è male Comunque dopo a6 si può anche giocare cavallo a3 Che non è per niente cattivo Cavallo a3? Sì Cavallo a3 Col sempre Però ti rimane Cioè, che facciamo qua? Facciamo, tiriamo fuori l'alfiere o facciamo e6? Ma, Alfiere G4 Tendenzialmente più naturale, no? Eh, volevo cercare di sfruttare un po' qua in buchi Però non c'è tempo Cioè, però mi fa talmente schifo rimanere dentro con quell'alfiere Vabbè, ma fai in tempo, no? Faccio cavallo c4 e basta Sì, quindi non c'ha senso No, Alfiere G4 Alfiere G4 H3 se non sbaglio Alfiere F3 Scusami, il tuo se non sbaglio intendi che ancora è tutta Sì, questa era la preparazione un tempo R per f3 Donna per f3 Cavallo per d4 Donna e4 E poi non mi ricordo più Va bene E allora, se non ti ricordi più Sei cattivissimo E io ti torno sulla scacchiera Dove sta? Sta qui Ti torno qui Perché però Carson sta ancora pensando Quindi se tu vedi che Carson ha Udite 5 minuti in meno dell'avversario Questo significa che si sa quante cose che loro sanno Obiettivamente la scelta di Dubbo è stata perfetta Si è guadagnato un terzo del tempo E questo è già più che sufficiente È estremamente preparato Carson sta pensando molto Chissà se loro l'hanno preparata insieme Anche questa ma credo di no Insomma, forse non vuole Non lo so Comunque qua è molto interessante Perché Carson sta pensando tantissimo Guarda, in tutto ciò Visto che non avevo niente da fare Intanto ho aperto il file Così almeno ti dico la linea Almeno quella che era una volta La principale del motore Ok, alfiere F4, cavallo D5, alfiere G3 A6 E cavallo C3 è la più forte in teoria Cavallo C3? Cavallo C3 è la più forte assolutamente Però cavallo A3 è interessante E a me non dispiaceva per nulla Cavallo A3, alfiere G4 E questa H3, alfiere F3 Quella che stava guardando Quella che abbiamo visto prima Però intanto non è Avendo aperto il file Sono anche il seguito Eh, però aspetta Perché Carson Se ne frega che tu hai aperto il file E ha giocato E ha giocato Proprio una mossa Che sta dicendo Senti Tutti sarai preparato Una cosa scintillante Lo so Mi vuoi infinocchiare Ma io ti gioco Una mossa easy Semplice Non me ne frega niente Non andiamo nei casini Che vuoi tu Ma rimaniamo In una condizione Molto semplice In cui ho il vantaggio Perché ho il centro Tu hai un po' più di difficoltà Perché la reazione tipica In questa struttura Sarebbe di giocare C5 Ma non ce la fai Perché ti sei messo Un cavallo in C6 Perché sei un pollo Io voglio giocare semplice Tra l'altro Questo cavallo in C6 Assomiglierebbe tanto Al cavallo in C3 Tutti e due i giocatori Si sono privati Da possibilità di fare C Il muovo il pedone in C Se vuoi Sono curioso Di farti vedere la linea Più che altro Per farti trovare una cosa Che potrebbe In quella che dicevi prima Ti metto Quella che dice Vai Se vuoi trovare Trovarla Cavallo F6 Qua Donna per B7 E qua c'è una sola mossa Che tiene la parità per il nero Wow Sarai 5 Non lo so Perché 5 e 5 Ok Alfiere per E5 Perché minaccia Di aprire l'alfiere In maniera energica Contro il re Al cavallo per mangiare qui Mangiare qui L'unica cosa Alfiere per E5 E c'è un'altra cosa Mirabolante Ce ne sono un po' di fila C'è un torre B8 Ok Prova se vuoi Sennò ti tiro la soluzione Che è un po' complicata Ah vabbè Allora se è complicata Alfiere per A3 Alfiere per D4 Alfiere per D4 Donna per D4 Wow Con la doppia magnata di torre Donna per A8 Scacco Questa Re E7 E adesso Donna per H8 Perde Wow Scacco E l'unica è Donna C6 Sennò Questa Assomiglia tantissimo Alla mia partita Veramente Storica Che ho giocato Tanti anni fa In cui ho fatto Un'apertura pazzesca Questa prima o poi È da vedere Contro simpaticissimo Caposciutti Alla semifinale Il campione italiano In cui ho Dato una torre La storia dove i pezzi Mi ricorda proprio tantissimo Però soprattutto L'analisi Che poi finì Su torre e cavallo Vabbè Ci hanno ragione Loro Ci stanno cazziando Ci stanno dicendo Ci stanno cazziando Fortemente Perché noi stiamo a giocare Qua Mentre invece Loro stanno Però Variante molto bella Che Ci ha fatto vedere Nicolò E Carlsen Sta facendo Quello che dice Nicolò Prima Cioè Dice La casa chiave È 5 Qua E io non mi voglio Bloccare il pedone Cavallo c3 Sarebbe un po' Bruttina E vedi come Carlsen Sta giocando pulito Perché questa scelta Probabilmente Che lui Ha Ha Impostato È Frutto del fatto Che è in vantaggio Del match Quindi perché Dovrebbe rischiare Perché dovrebbe rischiare C'è uno e mezzo Su due Scusa C'è uno e mezzo Sì Come vedete voi Brillantemente Dal punteggio Allora Gli spareggi Non li fanno Nella seconda giornata Dice In Isus 92 Sì Assolutamente Sì Perché No 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 Aspetta Aspetta No 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 Non è come dici tu Non no repo Perché Oggi Non ci sono I spareggi Oggi In mezzo Può anche Finire pari E Gli spareggi Ci sono soltanto Il secondo giorno Oggi è il primo giorno E Se non Se non vi ricordate Il Il calendario Lo faccio vedere Al volissimo Che è questo qua Quindi come vedete Ci sono i quarti di finale Che durano due giorni Le semifinali Che durano due giorni E la finale Che dura due giorni Soltanto il secondo giorno Di questi due C'è Eventualmente L'armageddon Nel primo giorno Non c'è Allora Adesso anche Dubbo Va cominciato a pensare Però ha sempre Quei quattro minuti Di vantaggio L'onoraggio Che non sono pochissimi Ma Posizione Piacevole Per il bianco Però Ok Effettivamente Quei minuti Di vantaggio Potrebbero essere preziosi Soprattutto In questo format Molto A tempo rapido Che dici Switchiamo Di scacchiero Da decidi Dove vuoi andare E ti ci porto Subito Qua Qua sembra abbastanza Tranquilla Quindi io Sì Girerei su Maxime Levon Che è vero che Sta succedendo Un po' di casino Allora Allora Intanto Aaronian Gioca H6 Perché dice Metti che quello Si distrae E non lo vede Gli impacco La femmina Ok Ma secondo me Lo vedrà Che dici? Eh Penso anch'io Però visto quello che è successo Prima Non si sa mai Che dici? Partiamo dalla prima mossa Giusto? Dalla prima mossa Sono 26 mosse Sono tantissime Non ce la facciamo neanche a fare la diretta Così Zac Allora Spagnolita Spagnolita Col centro sorretto Dal pedone in C3 Che è quindi Bianco è contento Perché ha realizzato Quello che succede nella spagnola Ma non è mai così facile Quando si evita di giocare a C3 Vi si becca spesso Una fiera in G4 Che va a controllare il cavallo Eccetera Questa è la contropartita Di spingere subito in D4 Vediamo qui che succede Però perché La posizione è diversa È un altro tipo di struttura Questa arcangelo O semi arcangelo Quello che ti pare Che invece Vede che il nero È posizione agli alfieri Contro il re Da questa parte Saranno molte altre mosse teoriche Per adesso C'è molte altre mosse Già consolidate Ok Inizia a diventare Abbastanza complicata Chissà da quanto Fino a dove Loro sono in preparazione Qua Non ne ho la più pallida idea Onestamente Ok Penso che tutto Più o meno si giochi Sul fatto che I pezzi del nero Sono abbastanza Scoordinati Ma allo stesso tempo Quell'alfiere in C2 È talmente brutto Che non si può guardare Penso che Questo sia Il tema Generale Della posizione No? Su G5 Devo chiederlo Perché Non mi è Chiarissimo Subito Sai che a me La fiere C2 È proprio schifo 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 Non è che mi faccia Però eh No no Ah ok Su Su G5 C'è donna E4 Infatti Dando vita Esatto Esatto Appena l'hai detto Ho detto Ah ok Salvo così Ok Probabilmente Ancora Circa pari No? Cavallo C5 Allora Aspetta Fammi pensare Tu stai dicendo Che ti piace più il nero Perché vedi pezzi Più fluidi? Non so chi mi piaccia di più Sto cercando di capirlo Tentando lentamente No? Perché comunque Il bianco Guarda che È pezzi molto belli Il bianco Cioè se tu mi passi Che la fiere C2 Comunque Non solo difende B3 Ma sviluppa Un'azione efficace I pezzi del bianco In questo momento Mi sembrano carini I pezzi del nero Per esempio La torre È nettamente Allora scusa Facciamo una cosa alla volta Come i bambini No? Dobbiamo fare Donna Vince il bianco No? Torre Vince il bianco 2 a 0 Per il bianco Cavallo Vince il bianco Questo qua I pezzi sono meglio Del bianco Il problema È che il nero Ha la coppia Di Alfeda Come ho detto I pezzi del bianco Sono abbastanza scoordinati E i pezzi del nero Scusa Sono abbastanza scoordinati Ed è questo il motivo Per cui Non sta meglio il nero Perché altrimenti Perché altrimenti Se i suoi pezzi Fossero più coordinati E quindi A malapena Un po' più attivi Insomma A livello del bianco Starebbe palesemente Meglio il nero Perché ha i pezzi migliori Ha l'alfiere Camposcuro Che è molto forte Eccetera Eccetera Di attività Però la linea Concreta È quella da guardare Alla fine E stavo guardando Questa g5 Donna e4 E stavo cercando Di capire Se ci fosse qualcosa Di specifico Ad esempio G5 Donna e4 G4 Anche potrebbe essere Forte Che il cavallo Non ha troppe case Pensa che io G5 Ma cosa mi paghi La farei Cioè tu Mi hai detto Che al fine c2 Non ti piace Eh lo so Dobbiamo lavorare Per spaccare tutto È una linea concreta Tutte le considerazioni Strategiche Spariscono Sulla linea Sì sì Però Cioè mi fai giocare Sui buchi Eh ok G4 Dove vai In h4 E poi faccio pure questa Cioè V Cavallo H4 Mi puzza Aspetta C'è il cavallo c5 E rompe le scatole Qua Perché non è Ah al fiere per f2 Al fiere per f2 Donna per f6 Quando Prima di Su cavallo h4 Cavallo h4 Ma io non posso giocare Cavallo h5 Qua Ok Cavallo h5 Sembra più complicata Intanto Intanto è andata esattamente Siamo proprio così Nella live Come vedi Cavallo h5 Hanno fatto Hanno fatto g4 E sta pensando E la vedi nella live No E sta pensando Il bianco Quindi dobbiamo pensare Fammi vedere Quello che hai visto tu Tu hai visto Su cavallo h4 Alfiere per f2 Alfiere per f2 E su represa Mangi con scacco Sparando il matto Diciamo evitando il matto Perché mi dai scacco Quindi se invece Noi giochiamo Cavallo h5 Che la donna H5 forse o f5 F5 Al pelo proprio Però è un pelo sufficiente Sembra no? Certo f5 F5 Perché se io mangio qua Mi rimangono due pezzi in presa No? Perché c'è anche f2 Ma il problema extra È che c'è anche f2 in presa Vabbè però Già un pezzo no? Sì Assolutamente Ci basterebbe Questo ci basta Quindi f5 Sembra proprio buona Attacca la donna Ok togliamo la donna Sto cercando di capire Se c'è qualcosa di forte Concreto E tutto quello che vuoi Guarda Intanto Lui ha giocato Cavallo d4 Perché ha detto No Io te lo blocco Il tuo alfiere f2 Forte forte E scusa L'alfiere che va in f2 E gioca cavallo d4 Ok Cavallo d4 Cavallo c5 Sembra abbastanza naturale Cavallo c5 Magari lo metto in d7 Se voglio Se faccio in tempo E se posso cambiare Quel cavallo in f6 Che mi sta un po' antipatico Beh certo Vabbè comunque Questo è quello che voleva La grava no? Che sta Ha sacrificato un pedone È stata giocata Cavallo c5 Sì Non dimentichiamoci Che il bianco Ha sacrificato un pedone Per andare in questa posizione Quindi vuole fare Un po' di casotto Per dare Tutta l'energia Ai suoi pezzi Ehm Ok Donna e7 O O basta Penso in realtà No? Ci sono altre mosse? Donna f4 Donna f4 Sembra veramente brutta Però Cioè non sembra Non sembra realizzare Quello che dovresti realizzare No? Tra l'altro Donna f4 Mi sa che abbandoni Però questa Te la lascio Trovare da solo Se vuoi divertirti Ehm Allora no Io non mi voglio divertire Voglio vedere Quello che dici tu Su Donna e7 Donna e7 Pensavo cavallo d7 Perché c'è il cavallo In d4 impreso Ma scusa Donna e7 Sta minacciando Che cosa? Donna f8 È una minaccia No? Allora Questa è un'ottima domanda Non è una minaccia Perché Sennò cambiamo tutto Al momento Penso che la cosa grave Sia cavallo h5 Aspetta che prendi matto? Al momento Penso Ripeto Che la cosa grave Sia cavallo h5 Cioè se toccasse a me Cavallo h5 Penso vinca No? Cavallo h5 Però sempre Difendiamo con Donna g8 Che è un po' triste Donna g8 Donna f6 Matto Ah prendi matto Ecco prendi matto Per meglio di questo Meraviglioso alfiere c2 Come fai Perché è brutto Questo alfiere c2 Però adesso è diventato bello Però posso far cavallo d7 Ma infatti comunque Devo dire che ci vuole Proprio coraggio Nel fare g5 G4 Lasciando questo alfiere così Si vede proprio Come dici tu No? Concretezza assoluta Questa posizione Richiede Come dice Nicola Una concretezza assoluta Perché è talmente Contorta Con tutti i pezzi Che volano Che se Voi analizzate male La partita è finita Allora intanto Siamo proprio così Quindi possiamo vedere Donna f4 Che dicevi tu Secondo me Perde in maniera carina Cioè molto È bellissimo Oggettivamente Più che molto carina È stupendo Ma vorrei fare un cavallo e4 Stranissima Che mi mette tutto in mezzo No cavallo e4 Mangia di torre Peggio Peggio di cavallo e4 Molto peggio Cavallo e6 Cavallo e6 Cavallo e6 Perché c'è la torre Che si mangia questo Sì E poi c'è f2 Poi c'è d4 E c'è tutto in presa Sì Sono abbastanza convinto Che dovrebbe vincere È bellissimo Tra l'altro Eh beh Lui l'ha vista Sicuramente Ci sta pensando 6 minuti e30 Contro 5 e57 Allora Ok Quindi devi fare Donna e7 Penso no? O hai altri Guarda Vediamo Donna e7 Tanto dobbiamo decidere Quando fare il cambio Perché sono i 19 e30 Ah Quindi dobbiamo decidere Sempre Ma guarda Penso che Siamo tranquillissimi Possiamo far come ci pare Sì Siamo proprio al volo Questa donna e7 Che sono curioso Ok Cavallo e7 Sembra Non dico forzata Ma quasi E tra l'altro Mi dà Non ho capito Scusa Perché cavallo e7? È perché C'è d4 in presa E devo togliere La minaccia di cavallo h5 E non trovo altre mosse Al momento per farlo Ah Perché c'è Perché c'è Cavallo h5 Eh sì No? Il matto di Sì Quindi vuoi giocare Cavallo e7 Il punto è che Su cavallo h5 Adesso posso fare Donna per d4 Perché f8 È difeso dal cavallo E se mangio in d7 Se mangio in d7 Mangi in d7 Sì Non so se Sì Mangi in d7 Basta Sì Donna per d7 C'è donna per d4 O alfiere per d4 Aspetta Non so se stavo facendo Una stronzata Una delle due Comunque Insomma D4 lo perdi Comunque stanno esattamente qui Perché ha Alfiere per d4 Ok ok Alfiere per d4 Cambia qualcosa? Forse posso fare anche Donna per no? Sarà uguale Più o meno Ah forse è un tentativo In più fare alfiere per Perché Donna per c7 Che sembra così bella Da fare Adesso ti becchi Donna f6 E questo è brutto Questo è parecchio brutto Torre f1 Torre 8 Molto silenziosamente Eh sì Però facciamo vedere Perché non si può giocare La Anzi no Perché non si può giocare Torre 2 Perché qui non c'è Donna 1 Perché non si può giocare Torre 2 Torre 8 non c'è Torre 2 Essere onesto Non l'avevo vista Forse alfiere c5 No alfiere b6 Ah uuu Alfiere b6 X è cattivissimo Attacca la donna E minaccia matto No aspetta Donna e7 Non è finita Però c'è questa Attenzione Ah ok Grazie Cioè no Aspetta Aspetta Non è detto Perché alfiere f1 Ah alfiere h4 Alfiere d4 Alfiere h4 È uguale però No h4 Non voglio lasciarti scappare Dall'altro lato Cioè non voglio farti andare Verso il centro Ok Alfiere h4 Ma è uguale Perché se cambio Osto non f1 È uguale È uguale L'altro toccava il nero Stavo guardando L'idea Fai finta che Non succeda niente Di sbagliato Con l'alfiere in e6 Stavo guardando L'idea Alfiere h7 Seguita da Torre per e6 Alfiere g8 E alfiere per d5 Eh perché Vabbè Comunque il bianco E lì secondo me Solo il bianco Può vincere Ma vabbè Sì Ma vabbè Diciamo Sì era carino Far vedere Una cosa particolare Comunque Sono talmente brutti Questi che Prima che gli diamo la qualità Non c'è bisogno Penso Siamo talmente Belli Guarda Sì 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 Era solo proprio per Per l'estetica Torre potentissima Quindi ok L'altra invece L'altra invece L'altra invece Sta così E qui invece Ghiri ha Ha questo pedone Per Più un altro pedone Cioè due pedoni Per la qualità E altro Com'è che Non Sembra facile Tenere bene G4 No Sembra facile No Non sembra Non sembra così facile Però in realtà Mi sa che Che lo riesce a tenere Perché stavo guardando Qualche Torre 8 Torre Torre 8 Torre 4 Però in realtà No Non so Mi piace più il bianco Più la guardo Più mi piace il bianco Va bene E invece Quella nostra Cioè quella Che ha Le faccette Dei giocatori E' questa qua Questa qua Si è sviluppata così Vabbè Te la faccio vedere Prima che me lo chieda tu No Zacchete Come va Velocemente Vedete che il bianco Gioca una partita normale Si è preso Lo spazio normale Ha il centro Perché il bianco Comunque ha il centro E si vede la differenza Di questi pedoni E' ovvio che il bianco Sta un po' meglio Perché ha il centro Però il nero Una posizione solida Fissa Una debolezza E quindi ha fissato La debolezza In b7 Ed è soddisfatto Il nero Mette i pezzi al centro Vediamo un po' Che succede O gioca f6 Perché è un giocatore dinamico Ma comunque Il nero si vuole liberare Vuole reagire Vuole Poi magari non ce la fa Infatti non ce l'ha fatta Si sembra Sembra veramente orribile Questa cosa Per il nero No? Sta peggio Si si è inguardabile Infatti vedete che Il bianco gioca Su tutte e due i lati Con questa mossa Voi vedete che il bianco Gioca su tutte e due I punti deboli del nero Guardate che bella mossa Pulita È facile Lui ha due debolezze E voi attaccate Tutte e due le debolezze Un cavallo c5 E un re Sta veramente bene Qui tutti i pezzi del bianco Sono messi bene Cavallo f3 Controlla Un'eventuale spinta In e5 Che è una spinta Che il nero Vorrebbe fare Per togliersi La sua debolezza Quindi vorrebbe farla Bisogna solo controllare Che non rimanga Con troppe case deboli Sulle case chiare E vediamo un po' Che succede qua Adesso succede Semplicemente Che con questo giochino Il nero Ha perso Un pedone Lo vedo abbastanza male E quando però Dubov sta male Lo sai anche tu Cosa fa Ormai l'abbiamo capito Spinge il pedone H Contro il red Dell'avversario Quindi ricordatevi Questa cosa Appena state male Zack Il pedone H In faccia all'avversario Questa volta L'altra volta Non ci fate troppo Troppo di spirito Seri perché L'altra volta Intanto gli stava Attirà proprio Anzi L'ha tirata Per un però Non vince L'altra volta Con le due partite fa E adesso No La partita scorsa Scusa Qua c'è il nero C'era il bianco La partita scorsa Questa la terza E la seconda Senti però Qui invece Secondo Noi C'ha Ma Devi tirarle fuori Proprio dal cilindro Qua perché Il bianco Mi ha chiesto benissimo No no Adesso Dico che Perderà il nero E palesemente Vincerà Questo Tipico Però Daniel Qua se l'ha cercato Un po' troppo Guarda Guarda Ti switcho qui Per farti vedere Che una torre è sparita E che adesso Siamo così E qua sicuramente Non gioca più Il bianco per vincere Perché siccome Se il nero Rimane per sempre A guardare Qua penso che Qua penso che ormai Si ha vinta nero Anche in tranquillità Perché il nero Perché il nero Si mangia i pedoni Rimanendo con la torre Che Ta in R E controlla D8 Ah no Non si può Scherzavo No Non ho visto che A2 era difeso Ma stavo per dire Che in questa posizione Addirittura Il nero Potrebbe pensare di fare Torre per A2 D8 Donna Ripeto Purtroppo c'è l'alfiere Che non l'avevo visto Perché sono stanco Però Torre per A2 D8 Donna Torre A1 Donna D1 Torre per D1 Re per D1 Re per F4 Mangia anche G4 E comunque Non può perdere Vabbè Adesso segue G5 Chiaramente Ma ce la fai tu A vincere questa Perché non sono Allora Aspetta Non sono così Sicurissimo Tu sei sicurissimo Che si vinca Perché guarda Che cosa fai Ti metto dalla definizione Di sicurissimo Ti direi Guarda Secondo me Il re passa da E7 Tengo la torre Sulla D Il re passa da E7 Va in D8 Però allo stesso tempo È anche vero Che puoi entrare Su F6 Vediamo il piano Scusa Facciamo così Vediamo Che cosa facciamo Stavo cercando Il piano del nero Stavo dicendo Porto tipo Il re Però in realtà Non funziona Sai che non è che vedo tanto Perché Il problema è che tu Qua con il nero Puoi usare O la torre O il re Nel senso Che la torre Sulla D È il re Cioè Uno dei due pezzi Deve guardare D8 Fin qua ci siamo E quindi Come fai Con un pezzo Solo a coordinarti Ah Ma è semplice Io ho la torre Che può perdere tempi Quindi a me Basta metterti In Zunzvang Il tuo Zunzvang È abbastanza semplice Cioè nel senso È una qualunque Una qualunque posizione Correi in prima Che è un becco matto Ok Esatto Tipo Metti che la torre Sia già In una qualunque altra casa Sulla D Tanto ci possono arrivare Subito Perché basta che giocare E1 Torre D4 E stanno Dove Esatto Adesso perde un tempo Sì Ora perde un tempo Perde un tempo E ti do il matto tipico Anche con torre D1 Scacco E torre E5 Esatto Quindi devi spostare No Lì ripetono e basta Cioè con scacco Torre D4 Penso intendessi Ma ripetono e basta Sì Però poi dopo Io ti gioco una mossa di torre No ma qua Qua torre D4 Torre D4 Adesso se io muovo Re H1 Regi 3 Devo fare Devo fare Re H2 E tu metti la torre lì Infatti Adesso Ah Quello intendevi Ok Sì 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 Torre D1 E adesso è quello È come dici tu È bellissima È bellissima Visto che avevi individuato subito Il tema Dello Zuzvac Perché il nero Il bianco non riesce a Se il nero Si perde questo pedone Un attimo Mi sono sognato i giri strani Corre Lasciamo stare Facciamo finta che non l'abbia detto Una roba del genere Però È molto più Perché pensavamo fosse più difficile E invece così Oh Intanto Dunque Sempre Se Non so che vogliamo fare Se vogliamo Quanto manca qua 4 minuti Direi che possiamo anche Ok Se vuoi finirlo Se no cambiamo Come preferisci Tu sei l'ospite Tanto penso che Che Matteo sia pronto Però Può anche Eh Guarda Vi lascio con le mie predizioni Allora Facciamo così Vai Allora Carson vince E vince anche il match Ovviamente Perché ormai È due e mezzo Poi Vashè Contro Aronian Allora Vedo il volo La posizione È un casino Voto patta Per questa Per questa partita E voto patto Anche il Il match Che penso che Aronian L'ultima col bianco Abbia chance So Contro Duda Sembra Molto piacevole Per il bianco Era quella che Vedevamo prima Non so se riuscirà A convertirla Ma ha buone chance Perché ha anche Un po' più di tempo Se non sbaglio Da quello che vedo Sugli orologi Quindi penso che Vincerà So E penso Pari Il match Anche lì E ok Giri Rajabov Temo che Vinca Rajabov Che in questo momento Si sta dimostrando Molto più in forma Oggi Temi che Vinca Rajabov Sì perché Io sono Uno sfegatato Fan di Anish Assoluto Comunque Vabbè certo Perché lui Adesso ha la quarta Col bianco E Se non perde Ha vinto il match Esatto esatto Quindi È difficile Che vada a perderla Forse è la partita Più complicata Da Però scusa Però Karsen Fammela guardare Un attimo In realtà Karsen Qui Ha due pedoni passati Ma Non dico Come se ce ne avesse uno Però intanto Selle è tutti bugati Aspetta Torre per E6 Torre per E6 Ecco no Questa è andatissima Torre per E6 Non c'è Non c'è nessun Niente Perché Alfiere Non c'è Neanche mezza chance Ok Va bene Non che io ne viva Cioè poi sicuramente Magari loro vedono Qualche modo Per creare casino Ma A gioco corretto È sicuramente perso Va bene Allora Decidete Matteo è pronto Quando voi tu Cambiamo Facciamo come volete Va bene Allora Facciamo una cosa Tanto i nostri amici Si vedono tutto Qua in diretta L'unica cosa Che non si vedranno È le nostre facce Ma loro non gliene può fregare Di meno Perché nel senso Che se si vedono Una copertina Va bene Lo stesso Quindi Nicolò Grazie Della compagnia Dei commenti Ci vediamo prestissimo Allora ragazzi Ciao Nicolò E niente Torniamo fra pochissimi minuti Con Matteo Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 È vero che stavo bevendo vino allegramente, però questo significa che qualsiasi cosa fai sarà sempre a un livello superiore del mio. Allora, ti lascio commentare questo finale molto tecnico che noi abbiamo valutato estremamente vantaggioso per il bianco, cioè a differenza di tutti i pezzi e delle strutture. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo me questa la vincenze. Io speravo che vincenze a tutti. e a parte il fatto che non riuscivamo a vederlo per questioni di video, per il resto è stata un'intervista molto interessante. Comunque Matteo, che è un'intervista. chiacchia chiacchiera e gli audio sono bellissima. E' un'intervista. guarda il labiale. Guarda il labiale. da cenare, però un saluto a Magnus, 1996, a Pautus, 1969, a Duff e Twins, a Massimo Vignati, a Save the Marot, però poi Marot mi sembra che li abbiamo salvati, perciò forse deve cambiare Dickman. a Boxer Papa e a tutti gli amici che ci seguono. Senti, però Matteo, io ti volevo dire una tua evidentemente non hai potuto seguire perché, chiaramente sai su chess.com, però ti vorrei dire una cosa che ti è sfuggita evidentemente perché non c'eri, ma sei pronto alla notizia? se sei pronto io, ora che metto i punteggi, ti do anche questa notizia, se sei pronto, sei seduto e te la do, considera che oggi abbiamo sfondato il record di 500 persone. Davvero Carlo? Yes, 500. Wow, sono veramente contento. Un saluto anche a Mel Karl di sapere questa cosa e non posso che ringraziare tutti quelli che ci seguono e soprattutto tutti i nostri commentatori come te che si danno tanto da fare per raggiungere la copertura di tutti gli eventi, anche fatti con una certa qualità. Beh, ma siamo contenti, in realtà può sembrare un numero stupido, però noi abbiamo praticamente decuplicato il record, non ti ricordi? All'inizio eravamo 50, poi siamo in area 500. Assolutamente, assolutamente, all'inizio eravamo 50 e continuiamo a crescere e speriamo di continuare così ancora per tanto e mi raccomando sostenete il canale, fate anche l'abbonamento mensile, costa solo 4,99€ ma ci dà la possibilità di avere tante risorse economiche per portarti qui ad analizzare giocatori di tanti caratteristiche. Settere diversi, forze diverse, simpatie diverse, insomma, un canale che cresce sempre più. Ok, tornando alla posizione, Carlo, senti, il bianco piano piano sta facendo tutti i progressi del caso, adesso non può ancora mangiare D5 perché il pedone P5 è attaccato, però credo che piano piano dovrebbe farcela sfondare. Forse su torri C5, nell'immediata, c'è il re D6, però il bianco può comunque catturare in quel caso in D5. Certo, quando catturerà in D5 Carlo dovrà cambiare il suo alfiere per l'alfiere avversario, però guadagna anche un pedone molto importante. Setti, ma tu hai notato che So, da quando frequenta il suo amichetto Nakamura, ha preso il virus? Loro hanno un virus terribile, praticamente quando giocano gli viene un virus che devono muovere il collo per dire no, no, no. Cioè, però, qualsiasi posizione stiano, non è che devono stare peggio per farlo, lo fanno sempre, si lamentano come dei pazzi e devo dire che So lo sta imitando molto bene Nakamura. Meno male che Caruana non ha preso questo vizio, Caruana mi sembra molto più, diciamo, meno dedito a cose tipo Twitch o roba del genere. Ma So non ce l'ha il canale suo, però, vero? No, So non è tanto, diciamo, espansivo, non è un chiacchierone, non ce lo vedo molto a commentare, però, magari in futuro, visto che ormai il canale Twitch è una cosa che si sta diffondendo sempre più, ce l'hanno sempre più persone, potrebbe arrivare ad avercelo anche So. Allora, intanto, siccome tu sei curiosissimo, io ti comincio a far vedere i dati dell'area di So, perché prima, per esempio, c'era Dubov che non aveva i dati dell'area, infatti devo dire che io ero molto agitato, perché non riesco più a commentare una partita senza vedere qual è il tasso di anidride carbonica, e invece adesso noi possiamo fare la comparazione, quindi adesso prendiamo anche quello di Duda e vediamo chi sta meglio e quindi se Duda... A livello di CO2. E certo, perché dobbiamo vedere se Duda ha le energie sufficienti per reggere un finale del genere con la temperatura. Comunque è simpatica questa cosa della temperatura, ma tu però non possiamo usare... perché noi abbiamo anche il canale italiano, ma aspetta, ma c'è il canale italiano? Abbiamo anche il canale italiano che è quello che hanno spedito a me, solo che io non riesco a farlo funzionare, Carlo, perché mi rileva tutti i dati, però non riesco a trasferire i dati dall'apparecchiatura elettronica al server che li porterebbe a disposizione, diciamo, di tutti, no? Infatti vedi che sotto c'è anche... loro lo chiamano, mi sembra, studio italiano, ma in realtà fondamentalmente è il mio studio, no? Eh, va bene, va bene. Perché inizialmente sembrava che ne dovessero spedire una decina, io dovesse mandarne uno ad ognuno di voi, e poi invece ne hanno mandato uno solo. Comunque guarda, la posizione è abbastanza equilibrata, perché Sochi ha 18 gradi contro Duda che ce n'ha 20, e anche l'umidità è 36 a 33, e anche l'energia carbonica è 964 a 1052. Ah, però, attenzione, perché Duda ha il circoletto rosso, che non è il circoletto rosso del tennis, famosissimo, storico, circosicolo. Ma vuol dire che è in zona rischio? È in zona rischio, sta sopra mille. Sì, 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 sì. Allora Carlo, ti dico i dati del mio, perché me lo sono appuntati, non sono magari quelli di questo momento, ma penso che se di là non hanno aperto le finestre, più o meno dovrebbe essere la stessa cosa. Allora, io ho 25 gradi, perché a casa mia è tipo foresta tropicale, ok? Una percentuale di umidità, mi sembra che fosse del 30%, e avevo un livello di CO2, se non sbaglio, che era di 700. Purtroppo io sto a Milano, dunque non è facile tenere sotto controllo la situazione. Comunque non sono in zona rischio, mettiamola così. Se sbaglio qualche analisi, perché sono scarso io, non è colpa del CO2. Va bene, comunque intanto Matt Carl ti chiede a te se può fumare in webcam, ma insomma, effettivamente se il mariso nessuno fuma, però devo dire che i giocatori di scacchi sono molto sani recentemente. Chi è che fuma? Nessuno. Nessuno è un fumatore. Una volta c'era Kramnik, che era un grande fumatore, per non parlare dei tempi vecchi, no? Comunque questa posizione è proprio brutta per il nero, perché il bianco minaccia di spingere questo pedone e di penetrare con la torre, è veramente un macello. Sì, perché il pedone di vantaggio, Carlo, misto al re migliore, la torre attiva e al vantaggio di spazio, di fatto danno al bianco una posizione vinta. Deve semplicemente giocare 4 e 5 e allargare il campo da gioco, no? Più lo allarga e più il nero avrà difficoltà a tenere sotto controllo tutte le case di accesso. Sì, ma infatti i boxer Babba e Matt Karpano di tali spaschi, per non parlare di quelli, diciamo, del 1900, inizio 1900, che erano proprio... Però oggi gli scacchi forse assomigliano sempre di più a uno sport veramente sano, nel quale tutte le componenti sono fondamentali. O intanto Matteo, tu come sei arrivato a te? Ti sei accorto che So sta perdendo? Ha fatto una svista mostruosa, ha perso un pezzo contro Duda nel finale precedente che era a senso unico? Era a senso unico per lui, e invece ha perso un pezzo, e quindi Duda sta vincendo 1,5 a mezzo. No, non lo sapevo. Questa è nella partita precedente? Nella partita precedente, in cui lui aveva il nero e aveva tre pezzi per la donna. Molto bello. E poi Carlo, c'è una cosa un po' strana, è che la partita fra Arronian e Vascela Grave è ricominciata adesso, ma è sempre di questo turno? No, al prossimo turno, si sono rotti le scatole, hanno detto noi giochiamo, non è che aspettiamo, vuoi vedere questa? Cioè praticamente loro vanno avanti per i cavoli d'oro senza aspettarci. Eh sì, allora io ti faccio vedere questa qua, che forse un pubblico... Ma io mi sono infatti sorpreso quando ho visto. Senti, a dare un'occhiata così potrebbe trattarsi di una Grunfeld? Allora, potrebbe trattarsi... Direi proprio di sì, che non solo è una Grunfeld, ma è una delle linee della Grunfeld, quella con donna B3, forse più aggressive sotto un certo aspetto, no? Eh sì, questa è la linea di Bodvini, che mi pare, no? Esatto. E quella della famosa partita, poi magari non è esattamente la stessa linea, però credo che sia anche quella della famosa partita fra Donald Byrne e Bobby Fischer. Allora, guarda, qui c'è però un nero che ha rovinato la struttura, però c'è qualcuno che dice che vuole vedere il finale, ragazzi, che facciamo? Mettiamo il finale? Ma senti, facciamo così, vediamo ancora due o tre mosse nel finale, penso che non dovrebbe durare tantissimo, e poi ci riportiamo su questa, visto che questa qua dovrebbe avere... Cioè, c'è più tempo, no? Perché sono all'inizio. Sì, il problema del nero, vedete, il bianco ha due leve, adesso ha esercitato una leva in F6, che era quella normale, e si va, può andare a pappare il pedone in H6, quest'altro se lo può mangiare pure con re, è veramente un problema questo, qui, quando si mangia il pedone in H6, si crea anche il pedone libero, adesso ha troppi vantaggi, perché ha il re passivo del nero, però, insomma, questi sono sempre i finali difficili. Comunque, così abbiamo visto la tecnica da usare in questo tipo di finale, Carlo, abbiamo visto che il bianco, al momento opportuno si è mangiato il pedone, quando va tutti i pezzi a posto, poi ha spinto in E5, e si è creato un pedone, una maggioranza pedonare, e poi ha spinto in F6, e ha catturato H6, per crearsi il pedone passato lontano. E ora deduco che ha la possibilità, o di giocare il finale 2 contro 1, però con i due da un lato e l'uno dall'altro, oppure ritenersi il pedone B5, e continuare a lavorare sulla posizione. Decide per il 2 contro 1. Eh, ma perché ha chiuso fuori il re, cioè c'è il re che non torna, e questa posizione con due pedoni passati, e con il re che non torna, mi sembra assolutamente impossibile da tenere. Tra l'altro, il pedone A del nero è molto lontano dalla promozione, quindi mi pare che sia... Ok, intanto il nostro amico, 3-2-8-4-4-0-4-9-9, citofonare solo ore e pasti, e ci ha inserito in chat un messaggio lunghissimo che si capisce però così così, però si scusa dicendo che l'ha scritto con il vocale. Un po' l'avamo capito, perché certi pezzi si comprendono, altri un po' meno. È vero? Replay, sì, sì. Ok, il replay è molto simpatica. Senti, proposta di cambio di torri, perché il re è dentro il quadrato, dunque il bianco mangia in F5, e poi rientra con il re e poi si va a mangiare il pedone e vincerà con i due pedoni dall'altra parte. Il nero chiaramente non cambia le torri e dà scappo. Il bianco porta il re in F3 e poi adesso andrà, presumo, a spingere il pedone A. E infatti gioca a casse. Comunque sai perché loro sono andati avanti, giustamente? Perché oggi si giocano i match, non si gioca il torneo, quindi che senso ha che loro stiano lì ad aspettare? Anzi, ti dirò che per lo spettacolo è pure meglio, così ci sono sempre partite, perciò sono andati avanti, hanno fatto bene. Sicuramente, poi sapevano degli impegni dopo, ancora di più. È molto interessante anche la partita Rajabov-Ghiri, che io adesso ti metto, visto che il finale è abbastanza definito ed è un finale tecnico in cui poi dopo magari uno solo può andare a guardare. Qui invece questa partita è interessante perché è una variante che va piuttosto di moda, ultimamente, e che è un po' strana perché il nero prima esce con l'alfiere in B4, però a questo punto non cambia la coppia dell'alfiere e torna in E7, cedendo tutto il centro al bianco. E detto così, Carlo, nel passato avremmo, se l'avesse giocato un giocatore principiante, l'avremmo criticato, no? Però il giocatore principiante sa perché gioca questa cosa. La gioca perché c'è... Anzi, facciamo anche un quiz agli amici. Gioca così, anzi ve lo faccio vedere così. Gioca in questo modo perché uno dei pezzi bianchi non è messo bene. Tutto questo lavoro perché vedete che il nero ha fatto due mosse d'alfiere ed è tornato a casa e ha ceduto tutto il centro. Guardate che roba. Quindi sembra proprio una cosa brutta. Eppure tutto il sistema si basa sul fatto che un pezzo bianco non sta messo bene. La domanda è facilissima, anzi, la domanda è una domanda. La risposta è facilissima perché ci sono pezzi, pochi pezzi fuori. Quindi voi mi dovete per forza rispondere in chat. Senti Carlo, ma mi confermi perché io sono arrivato dopo che il motivo per cui Ghiri ha scelto questo sistema è anche quello di squilibrare la posizione perché è sotto di mezzo punto nel match o sono pari? Allora, io ti faccio vedere anche la situazione perché lui è sotto te lo dico già da adesso perché, anzi senza che te lo faccio vedere le prime due sono finite pari la terza l'ha vinta da Jabov Ok, adesso mi torna tutto Sì, sì, sì e poi Dunque lui ha al nero ma deve giocare per vincere Sì, deve giocare per vincere velocemente posso pure mettere la classifica online un attimo sopra giusto un attimo sopra per farla vedere più che classifica è la schermata con i risultati messa sopra perché non c'entrava e quindi ok però ti devo dire invece che Rajabov ha pure mancato una vittoria nella prima partita o comunque ha mancato una mossa molto molto superiore vediamo in chat se qualcuno mi dice qualcosa allora vedi che vedi che è bello che io ho fatto la domanda e ho chiesto qual è il pezzo che del bianco è messo male la risposta è stata l'alfiere nero Sì, in realtà l'alfiere nero è quello che subisce gli effetti del pezzo messo male nel senso che il pezzo messo male è il cavallo in D2 però chi subisce gli effetti di questo pezzo attualmente mal collocato è il polvere alfiere C1 che non può giocare come vorrebbe intanto amici per chi non conosce questo finale 2 contro 1 questo è un clinic di tecnica modulo tolto perché volevo solo far vedere che aveva vinto e tornare sulla partita se vuoi parlare te lo rimetto no 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 ma ne parliamo poi alla fine volevo solo dire che è un finale classico da studiare perché succede tante volte negli scacchi di trovarsi con il finale con magari due da una parte contro uno dall'altra non è un finale molto difficile ma bisogna sapere come giocarlo intanto Carlo diciamo che il nero invita il bianco a spingere in D5 perché vuole giocare cavallo E8 o cavallo H5 e poi spingere in F5 e imbastire il classico controgioco sul lato di re tipico dell'est indiana con la differenza che qui non ha l'alfiere in G7 ma lo ha in E7 e dunque il futuro potrebbe anche pensare se un cavallo in F3 non ci sarà più di giocare alfiere G5 e cambiare gli alfiere di case nere cattivi il bianco non ha boccato e ha mantenuto il centro flessibile possiamo anche forse Carlo far vedere perché non è possibile guadagnare col bianco invece il pedone in D5 perché se il bianco avesse giocato invece per esempio di B4 D per E5 D per E5 e cavallo per E5 gli rimanevano alfiere in D3 sospeso ed era anche in rattratezza di sviluppo perché il bianco non ha ancora portato il re al sicuro con la propria ora ora ti faccio vedere tutto ma ci sono le priorità e tu lo sai che le priorità sai quali sono le priorità e sono i faccioni sono sempre i faccioni indoppiamente giustamente Fior di Stella sottolinea l'alfiere in D3 assolutamente e poi non solo la spinta in D5 blocca la posizione e rende cattivo l'alfiere in D3 del bianco non che adesso sia attivissimo questo alfiere e infatti l'idea del nero è proprio questa quello di mantenere l'alfiere in D3 passivo e di spingere il bianco a fare D5 oppure a un certo punto di mangiare in D4 e occupare la casa C5 o la casa con i suoi cavalli in particolare col cavallo in D7 che è già pronto però il nero non ha fretta comincia a mettere una torre in E8 poi forse farà il fiere F8 e infatti è appena stata giocata e poi dunque potete clippare su questa cosa e fare cominciare a preparare un po' di pressione sul pedone in E4 Ludopal vi chiede se stasera arriverà un'altra intervista ragazzi ovviamente io oggi mi sono prodigato per voi e insieme a Carla abbiamo discusso chi potevano essere gli invitati per questa serata noi volevamo Giselle Bunken e Magnus Karsen ma ci hanno detto che non era possibile e invece a questo punto abbiamo ripiegato su Anish Giri oppure il vincente fra il match fra Ronjan e Maxime Vashelagrav sarà molto difficile avere Anish Giri ancora di più se perde il match e il vincente del match invece fra Ronjan e a Mvl c'è qualche possibilità però non vi garantisco nulla perché come sempre lo sapremo solo all'ultimo momento e questo perché così teniamo Carlo bello reattivo un po' un po' un po' un po' un saluto intanto anche a Anni Ballettier Giuseppe Lettieri che ci aspetta che ci segue in chat Giuseppe Allora guarda aspetta Matteo intanto giusto per dare un po' di sale si stanno presentando dei problemi strani al tuo microfono quindi speriamo bene che il cambio con questo microfono fico fico non dia dei problemi davvero per un attimo c'è stata un'incertezza non so se tu l'hai fatta apposta però potrebbe anche essere la linea se no al peggio posso sempre cambiare microfono adesso si sente bene dai non ti preoccupare tanto lo sai che succede che appena arriva il grande maestro di intervistare succederà qualcosa sicuramente mica può andare liscia così allora Raja Poghiri Ghiiri oggi secondo me non viene perché non lo vedo bene Raja ha 5 minuti in più 5 minuti in più non sono mica pochi è assolutamente ma soprattutto quello che pesa molto è essere sotto 2 a 1 però bisogna dire una cosa a me la posizione di Ghiiri piace in questa partita non posso dire che lui abbia un vantaggio perché mentirei però è un tipo di posizione con cui si può giocare per vincere e questa è la cosa più importante per Ghiiri avere una possibilità di giocarsela in quest'ultima partita senti ci sta comunque il nostro pubblico in particolare il tuo amico boxer Baba che sta protestando avverso questo bot che è è cattivissimo e che quindi lo blocca che blocca tutti i video che uno manda lui ha fatto una clip l'ha mandata e gli ha bloccata quindi tocca fare qualcosa contro questo bot che blocca però lo vedo in chat Carlo perciò vuol dire che tu forse l'hai approvato io non ho provato niente però il Nightbox ha scritto a boxer Baba I have finished che tradotto significava ma che stai a fa hai finito di rompere le scatole la pianti allora vabbè comunque poi la mamma di boxer Baba dopo mi telefona stasera mi tira le orecchie allora qui quello che tutti notate subito è che questa struttura del nero il nero ha ottenuto un grosso vantaggio a meno spazio però ha ottenuto una cosa molto importante c'è una casa c5 che così con sta cosa che me ne riempiono tutte non mi piace per niente è una casa c5 molto 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 importante l'ho detto 4 volte per farlo capire di più perché il bianco non avrà mai più nella sua vita un pedone che gli va a rompere le scatole questa casa c5 di solito non c'è perché il pedone sta ancora in b3 e in tutte queste strutture est indiana si gioca poi b4 per togliere la casa c5 e questo è il motivo di a5 per consolidare questo possesso ma ho detto una cosa strana la gente potrebbe dire oh hai detto est indiana anche se non c'è g6 ma non fa niente la struttura è questa qua è una struttura centrale che è caratterizzata anche perché è probabile che prima o poi il g6 possa arrivare comunque g6 deve arrivare lì dove il nero voglia far giocare questo alfiere che gioca così sempre gioca sempre su questa diagonale tra l'altro questa diciamo così che si assomigliano molto vedi perché può essere anche una struttura questa è una struttura è un centro è un tipico centro se io metto il pedone in b2 è un tipico centro spagnolo in cui il bianco ha fatto c4 che blocca per sempre il d5 invece in questo caso però il pedone in b5 non è un segnale buono del bianco perché la casa c5 gliel'ha data la data per sempre non mi ha fatto impazzire sai Carlo la mossa b5 fatta dal bianco ti devo dire la verità forse ci vorrebbe qualcuno ancora più forte per spiegarla però io non l'avrei giocata forse non avrei neanche giocato b4 immediatamente perché mi sembrava di essere troppo espanso no? però aver giocato addirittura b5 è chiaro che prende spazio però come dici tu craterizza la casa c5 bravo era più normale giocare al fiere b2 no? guarda non ti vorrei dire ma forse io ho giocato la stessa identica posizione bisogna comunque stare attenti al pedone b4 che il cavallo arriva molto velocemente ci sono cioè il problema che il bianco per realizzare questa espressione centrale ha ancora il rene 1 ho giocato una partita molto interessante secondo me è proprio così però sai piccole differenze di mezzi pedoni che non ricordo bene soprattutto se devo fare anche il commento in diretta allora vediamo un pochettino che succede il nero niente il nero questo è spazio contro case chiave adesso il nero penso che manovrerà per portare questo ti dispiace tanto se ho fatto i colori della Roma perché non c'è il nero cioè se io avessi eh lo so non c'è il nero infatti io ieri usavo una freccia sola perché così usavo solo la freccia rossa no ma non mi disturba perché io a differenza dell'avvocato di Fonzo sono un uomo maturo e non mi non che lui non lo sia però non mi faccio condizionare da queste piccole cose ma tu senti ma sei un uomo maturo solo quando il Milan è primo in classifica o sempre? eh io sono un uomo maturo e composto ho delle reazioni assolutamente controllate quando segna il Milan avete presente Gagliani in tribuna sì più o meno delle reazioni di questo tipo sempre sotto controllo una plombo inglese senti Carlo sono d'accordo con te cavallo F di 7 magari in futuro cavallo C5 e poi forse un alfiere in E6 potrebbe anche esserci un piano di giocare alfiere di C4 e cambiare l'alfiere di bianca su un cavallo per poi rimanere col cavallo contro l'alfiere di case bianche dell'avversario dunque cavallo contro l'alfiere cattivo vabbè allora sai che faccio una botta di vita visto che Giri ha l'apparecchietto e lui è anche capace di regolarlo allora io forse me lo vado a prendere lui sì lui sì lui sì però ti svelo un segreto mi hanno detto che tutti i giocatori hanno ricevuto una telefonata con una persona di ArtThings che li ha seguiti passo passo nell'installazione invece io l'installazione me la sono fatto io e ovviamente Carlo non è andato a buon fine senti però tu che allora togliami perché io l'ho intervistato anche il nostro amico però io non ho capito bene una cosa ma questa cosa qua serve soltanto e esclusivamente per tarare per tarare non migliora la qualità dell'aria quindi non è che spremi un pulsante magico e ti entra l'ossigeno dentro perché potrebbe essere utilizzabile anche per il covid se fosse così no serve solo a livello di rilevazione anche perché comunque ha un costo di un certo tipo che peraltro l'apparecchio che hanno mandato a me a casa che è lo stesso modello che hanno i giocatori tieni presente che costa 200 euro se non sbaglio dunque non è che costi proprio pochissimo wow solo 200 ma che ma allora è fantastica questa cosa approfitta tu così devi fare devi sostenere lo sponso dica voi di che costa tanto scusa poi magari nel catalogo di questa dita Arthings ci potrebbero anche essere degli altri prodotti che bisogna andare a vedere sul sito che invece potrebbero contribuire a migliorare la qualità dell'aria però sinceramente non sono sicuro sono andato a vedere il sito però non mi ricordo più tieni presente che alla mia età ricevo tantissime informazioni la metà poi non me le ricordo eh caro Giovanni come mi parli di queste cose dell'età senti ci sta qualcuno in chat che ci chiede che ci chiede come si chiama l'apparecchio l'apparecchio come si chiama io non lo so se si chiama però e ha un nome ha un nome tecnico che io adesso non mi ricordo però ovviamente si chiama Arthings qualche cosa eh lo vedete su dal banner vedete su che c'è chiedito Arthings e quello è il controllo tec penso air quality control credo che dovrebbe essere vabbè comunque sul sito vi guardate tutto eeeh comunque io ricordo che va bene dare i soldi a Arthings per contenere sotto controllo l'aria però a questo punto fate anche la premium membership su CES24 perché se fate 30 dovete fare anche 31 eh che poi sapete che per esempio Matteo tra l'altro ci tiene talmente tanto a questa cosa che oggi mi ha proposto senti però non non mettere la mia faccia metti soltanto la promozione e io mettiamo sta promozione così in faccia a Matteo e mettiamo sta promozione però ricordatevi che c'è il 40% il codice il codice è Italia ok quindi dovete usare il codice Italia che tra l'altro erano andati a guardare che gli spagnoli avevano messo che avevano messo che c'era che c'era come si chiama tra i giocatori Lerne come si pronuncia Lerne 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 Dominguez e allora Dominguez allora loro gli spagnoli hanno scelto come codice non è che sono banali come noi Italia allora hanno scelto come codice Vamos Lerne che è veramente divertente come se noi avessimo un vocaturo e scrivessimo vai Daniele come codice chissà però Carlo però non è neanche spagnolo cioè spagnoli hanno scelto così poi aggiungo un'altra cosa non gli ha portato benissimo no perché è stato eliminato allora intanto guarda c'è un intanto Marco Rudel oltre a questo fa anche una domanda tecnica sulla posizione non so se tu sarai in grado di rispondere però lui ti chiede in questa posizione specifica col centro così aperto se tu preferisci che vinca la Lazio o l'Inter no ho capito che c'entra il centro aperto però ti chiede questa cosa infatti io in modo molto professionale non ne ho risposto un po' perché la risposta è ovvia e un po' perché per me non è ovvia perché solo perché se per caso la Lazio fosse seconda in classifica l'Inter giù tu ti faresti per l'Inter ma in quel caso ti farei per un pareggio però devo dire che siccome io sono una persona con un approccio logico io ti fò sempre per il pareggio perché se pareggiano perdono un punto tutte e due invece se ne vince una delle due fa bottino pieno e poi si gasa anche dunque secondo me il pareggio è sempre il risultato migliore quando giocano due squadre che sono tutte e due delle contendenti senti Matteo ma quindi io che cosa mi devo aspettare una comunicazione da parte tua o una comunsione da parte di qualcuno di Certo Antifor oppure uno che mi entra in Zoom senza avvisarmi devi aspettare che io alle 9.05 vi devo abbandonare per un quarto d'ora e ritorno alle 9.15 perché Aileen mi ha convocato mi deve dire delle cose fra cui forse se avremo o no sto ospite scusa sto ospite un quarto io ho chiuso la trasmissione no è chiaro Carlo che se alle 9.05 vado via ormai sta per finire vi saluto e chiuderai tu e non avremo l'ospite va bene però comunque io seguo a sua volta gli ordini del super boss va bene ma comunque noi oggi siamo soddisfatti abbiamo sfondato il muro 500 il che vuol dire che adesso la prossima tappa è 600 oppure 1000 non lo so decidi tu siamo contenti abbiamo capito che anche senza l'ospite sfondiamo tutto eccetera eccetera poi tra l'altro il pubblico viene mostrano tutti a magnà hai visto che qualcuno lì ha pronunciato la parola ravioli un altro ha detto anche regoli cinghiale comunque ragazzi voi lo sapete queste cose si possono tranquillamente dire quello che non si può pronunciare come nome è nome pizza per il resto potete dire quello che vi pare di cibo certo intanto senti Carlo Duda abbastanza disperato per l'esito dell'incontro nella sua partita ha sparato un G4 contro l'arrocco dell'avversario peraltro una mossa che a mio avviso probabilmente era sbagliata però come un giocatore di poker se l'è giocata e So non ha catturato in G4 e ha giocato invece un'altra mossa che non è male ma diciamo che è meno decisiva no e la loro partita è molto sbilanciata secondo me è molto probabile che si concluda con un risultato netto il problema è che è più probabile che si concluda con un risultato netto a favore del nero che non a favore del piano allora G4 è bella qui perché in realtà è abbastanza intanto G4 ha fatto su F5 quindi però gli è arrivata H4 cioè lui ha giocato H4 che probabilmente minaccia cavallo G5 mi pare e poi su F5 sfonda tutto con G4 in realtà in realtà è uno sfondo relativo Carlo perché il nero aveva due mosse che erano tutte e due molto interessanti una era cavallo B4 e l'altra da decidere quale se il D o il C e l'altra era semplicemente prendere in G4 anche perché attaccava il cavallo in F3 e guadagnava un pedone ma non l'ha giocata e invece ha giocato cavallo per C3 che comunque sembra un'idea altrettanto interessante perché semplifica un po' la posizione e il bianco deve decidere con cosa mangiare no bianco ha già deciso cosa ha mangiato ha mangiato è certo ha mangiato di pedone che vuole attivare però certo mangiai di pedone dunque perché non ha mangiato di alfiere perché arriva cavallo B4 si c'era anche donna D5 che era interessante eh Carlo perché su donna D5 come fai a difendere il cavallo in F3 se fai alfiere G2 prendo G4 che la cosa mi sembra fastidiosa è anche vero che ti saldi con cavallo G5 perché su F per G4 fai cavallo G5 minacci matto in H7 però io col nero posso giocare donna F5 e paro il matto e minaccio donna per F2 se il bianco è costretto a mangiarmi la donna poi il pedone G4 non lo riprende mai più e io mi tengo il materiale di vantaggio intanto sto facendo vedere un'altra linea io ma vorrei chiedere per cortesia al nostro moderatore di bannarmi subito Xangar che ha pronunziato la parola impronunziabile anche con diciamo con un senso di sfotto e quindi va subito buttato fuori non me lo butta fuori che sto scherzando che magari poi me lo butta fuori invece ha fatto D per C3 Carlo e adesso il bianco ha un ulteriore problema quello che si rinforza il controllo della casa B4 però il re se lo tiene ne uno giusto? perché adesso non può più arroccare sì beh vabbè certo comunque come dici tu sei proprio buttato vuoi fare un giretto? ti faccio fare un giretto qua guarda Ronin contro Vasella Grave mentre lasciamo invece Rajabov in primo piano perché adesso ci torniamo con la partita decisiva anche quella è importante comunque per rispondere alla domanda del nostro amico di prima io una torre in D1 ce la metterei perché mi sembra la casa più naturale dove piazzare la torre del bianco dunque se dovessi scegliere in questo momento nella partita di raggio con una mossa giocherei probabilmente torre a D1 e allora io te la rimetto scusa che stiamo a parlare alla ciega torre a D1 sì hai ragione è perché mi è tornato in mente che non avevo risposto alla domanda dell'amico prima poi tu con la storia del Lazio Inter mi hai irretito non ci sa capire più niente beh è chiaro è come al solito è partito da un punto A ed è finito a un punto I senti però noi ci distraiamo a pensare alla Lazio ma Rajabov è distratto ancora più di noi perché ha un minuto e venti secondi quindi sta soffrendo molto questa questa questo il possessamento del nero delle case centrali guardate quanto è bello il lavoro che sta facendo aspetta fammi fare i disegnini io te li faccio in blu guardate quanto è bello l'impossessamento da parte del da parte del nero di tutte le case di tutte le no ma guarda quanto sono brutte queste frecce che vanno nella stessa vedete in nero a tutte le case queste scure che sono completamente dominate è molto è molto bello il lavoro che sta facendo potrà arrivare anche un donna F6 adesso c'è il cambio degli alfieri e zompato un pedone così senza un perché è zompato un pedone ma Carlo c'è un perché perché no ha deciso di alleggerire la posizione dando un pedone questo gli darà un pochettino di controgioco perché immagino che adesso potrebbe giocare o cavallo H5 cantando firulì firulà e minacciando matto in G7 oppure prende in E4 e dopo la presa di torre certo ha un pedone in meno ha risolto tutti i problemi delle case nere aspetta cavallo H5 è proprio arriva l'arbitro come arriva l'arbitro cavallo H5 come fai ciò che è cavallo H5 è cavallo H5 aspetta Matteo tu stai guardando cioè guardiamo la stessa cosa o guardiamo una cosa diversa ah scusami perché io sono perché io sono indietro perché perché ah dai non ti abbattere così dai dopo donna per dopo donna per P2 ha catturato in E4 e invece io lì proponevo cavallo H5 ok allora invece lui punta tutto su questa famosa torre in D1 che qua con tutti i colori laziali però devo dire che Ragiamo come condotta di gioco per uno che si presenta all'ultima partita col bianco e un punto di vantaggio non mi ha convinto eh si è fatto un po' tirar dentro dai ghiri in questa posizione e adesso ha il suo bel pedoncino in meno e deve dimostrare che c'è compenso senti allora facciamo una cosa ti sfido Matteo ti sfido però per te sarà durissima tu devi rispondere alla domanda di Jack Chantol come si chiama senza mai dire la parola Botez vai prova tanto ragazzi non ci riesce è come quel gioco tabù dove tu devi dare la risposta ma non puoi usare certe parole vai prova allora cosa ne pensate degli streamer che giocano a scacchi potrebbero essere un possibile avvicinamento per i giovani non parlo di Karu ma ad esempio di streamer italiani che giocano per passione come Blur che ha anche il padre che se non sbaglio è un giocatore professionista solo che io qui crollo sul fatto che non so chi è Blur non chiedere a me perché io sono poco preparato ascolta Jack scusami ma io non so chi è Blur ti posso fare ti do una risposta così di carattere generale secondo me è tutto quello che comunica gli scacchi senza stravolgere il nostro gioco è positivo per l'ambiente scacchistico per il gioco degli scacchi e per aumentare il numero di appassionati intorno a questo gioco io sono un po' un purista perciò non sono d'accordo su fare delle operazioni che tendono a sminuire il gioco degli scacchi per farlo diventare appetibile a chiunque a qualsiasi prezzo però nello stesso tempo lavoro nel marketing e è chiaro che la filosofia base nel marketing è che se tu non sei in grado di comunicare il valore del prodotto che vuoi vendere questo prodotto perde di fatto il suo valore perciò è una cosa su cui noi degli scacchi abbiamo molto da imparare perché molto spesso abbiamo avuto nel passato un approccio troppo elitario che ha avuto la risultante di impedire che il gioco arrivasse a tutte le persone a cui doveva arrivare bisogna trovare un compromesso per smilire il nostro gioco non stravolgerlo e nello stesso tempo riuscire a comunicarlo nel modo più efficiente possibile e che si avvicina questa non è una cosa facile perché nella società moderna comunicare è diventato sempre più difficile perché c'è una come dire in italiano viene più in inglese c'è una sovrappondanza di comunicazione di informazioni dunque anche le troppe informazioni ottengono un effetto controproducente è come se tu ti metti davanti una biblioteca intera di scatti te la danno tutta a quel punto hai il problema di scegliere che cosa leggeranno questo è lo stesso problema che hanno le informazioni nella società moderna c'è una così facilitata di accedere alle informazioni che di fatto diventa difficile fare una selezione in modo di cento e qui chiudo Carlo perché mi sa che sono un dato puro della data no ma mi hai deluso veramente tantissimo perché non credevo che tu non mi citassi mai neanche una volta eh potrei concludere dicendo che insomma le volte fa una buona sintesi di tutto questo guarda che bella mossa che fa Ghiri gioca a torre c8 e non come avremmo giocato tutti noi torre d8 per proteggere il pedone dicendo ragazzi la cosa più importante nei finali è sempre l'attività dei pezzi quindi tra l'altro sarebbe eseguita probabilmente torre c1 con idea fedi 3 non lo so vabbè non lo so ma anche torre comunque la lascerò là e Rajabbo gioca h3 Rajabbo gioca h3 ma Carlo non lo vedo bene Rajabbo perché questa posizione è chiaramente superiore per il nero perché ha i pezzi più attivi ha il pedone di vantaggio e il pedone b5 nel futuro rappresenta anche lui una debolezza e anche il pedone a3 pur essendo su casa nera è una potenziale debolezza ma non è su casa nera è su casa azzurra non lo vedi ah si giusto allora intanto che facciamo uno switchettino perché ci sta qua Maxime che stava provando ad andare praticamente matto però Aronian si difende adesso però devi difendere f2 e non vedo come farlo senza beccare un doppio però ci devo pensare un secondo come fare senza beccare un doppio un doppio infatti se lo becca no non se lo becca credo che che devi per forza giocare torre f1 mi sa eh no ma torre f1 l'hanno giocata però su cavallo d2 non si può mangiare la torre perché c'è cavallo f3 e però forse infatti cavallo per f2 gli ha sparato eh si cavallo per f2 gli ha sparato ma scusami tu al posto di torre f1 cosa proponevi niente non c'è niente ah non c'è niente infatti no no per un attimo pensavo di essere io che riuscivo a comprendere il punto della situazione no guarda stavo a fare torre f1 per forza guarda stavo addirittura pensando se qua si poteva fare cavallo g3 su cavallo su cavallo stavo pensando si poteva dare la donna così secondo me forse si può pure dare però tanto quello gli ha giocato giustamente cavallo per f2 è sfondando tutto e cavallo per h3 si può giocare tu vuoi tagli la donna perché i pezzi sono i suoi no perché prima era stata molto bella al finale con la donna contro tre pezzi di su che poi però ha perso un pezzo quindi lì c'è la difficoltà perché è vero che anzi c'era Nicolò che diceva con i tre pezzi mi piace tanto quando abbiamo poco tempo però in realtà quello a doppio taglio perché quando abbiamo poco tempo è molto più facile giocare quando avete un pezzo da gestire quando avete tre pezzi da coordinare è molto più complicato tant'è vero che addirittura un campione come suo ha un po' sbroccato e gli ha lasciato praticamente un pezzo in presa cioè l'ha perso con uno scambio beh sai sai Carlo quando quando veramente questa situazione tipo la donna contro le due torri o tre pezzi contro la donna lì veramente bisogna guardare la posizione perché ci sono così tante discriminanti molto spesso le due discriminanti più importanti sono la struttura pedonale che appoggia i pezzi e la sicurezza dei due reno e che è difficile fare dei discorsi astratti senza poi entrare nello specifico intanto mi sembra che il il bianco il bianco abbia superato i momenti peggiori no perché si ha un pedone in meno però intanto non becca matto e poi ha la coppia degli alfieri penso che sia patta abbastanza abbastanza veloce essendo lo stasolato il cavallo gioca abbastanza bene dunque il nero farà dei tentativi però però guarda diciamo la cosa più importante che c'è da guardare qui è questa casa questa casa che voi in questo momento vedete rosso ma non è rosso perché ce l'ho messo io sopra il colore in realtà vedete che questa casa è di colore diverso dall'alfiere blu è questa cosa che vuol dire che il pedone libero comunque vedete va su bianco vedete che una grossa chance per il bianco di pareggiare è di dare il pezzo sull'ultimo sull'ultimo eccetera poi ci sono anche un po' di temi di dominazione del cavallo da parte della coppia degli alfieri perché vedete che questo cavallo non ha molte case e non ha soprattutto pedoni che lo sostengono adesso deve deve fare un viaggio vedete che va in D8 vuole andare probabilmente in futuro in E6 ma il bianco gli dice no cambi con mio in E6 tu quello sai che io l'avrei tolto quel cavallo io avrei fatto avrei fatto alfiere per D8 proprio senza manco pensare sì però adesso Carlo per esempio se fa cavallo F7 glielo inchiodi con l'alfiere poi glielo mangerai poi sacrifici sacrifichi l'alfiere nero sul pedone F6 e come hai detto tu è patateorica senti non ci credo che non gli ha mangiato l'alfiere guarda mi sento male no ma se vuol pattare gli mangia il cavallo ma perché non glielo ha mangiato ma glielo mangia con l'alfiere bianco ma scherzi glielo mangia andando a fiere di quello contrario mica glielo mangia andando a fiere no perché beh ok va bene in tutti e due modi però se io mi tengo l'alfiere in E3 quello di casenire poi lo sacrifico sul pedone F6 e l'altro non può vincere giusto? ma scusa Matteo fammi capire cosa mi dice la cosa tu che sei così ecco adesso ma chi ok adesso perde addirittura il pedone ma scusa ma ti prego ma mi dice una cosa perché non ha mangiato il cavallo prima ma gli piaceva ascolta gli piaceva più un'altra linea comunque era una posizione strapata e vabbè però non l'ho capita perché se avesse mangiato il cavallo sarebbe finita subito invece ha fatto un po' scamboso si abbiamo a Ronian e un superdoso abbiamo si a Ronian in intervista glielo puoi chiedere si senz'altro non abbiamo gli dici scusa ma perché non hai mangiato il cavallo guarda comunque secondo me non abbiamo nessuno in intervista visto che sono ai 20 e 40 fammi andare fammi andare a vedere fammi andare a vedere se ci sono novità ricordatevi sempre che quando io guardo così non è perché mi sto facendo i cavoli miei ma vado a vedere se ci sono delle novità sull'intervista allora qui Rajapo intanto sta giocando sempre con questi 20 secondi e c'ha e c'ha e c'ha e c'ha il pezzo in meno eh te l'ho detto Carlo Rajapo finirà per buttare buttare via questo match lo chiuderà in parità e si troverà 2 a 2 invece che aver vinto sì 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 questa qui è tostissima c'è un pezzo in meno stasera sua moglie non gli dà la cena gli dice a letto senza cena vabbè questa la vedo veramente tosta e forse dovremmo mettere allora obiettivamente dovremmo mettere la duda so perché questa qua mi sembra andata la duda so dura ancora un quarto d'ora quindi io andrei sulla duda so poi vi aggiorneremo eh sì perché è la partita più più sbilanciata d'altronde duda ha fatto di tutto per poter sbilanciare questa questa posizione questa partita prendendosi dei rischi enormi per farlo e probabilmente ha giocato anche un'apertura abbastanza scorretta la Jabov mi sembra giù di morale è un polare di un cane sta pensando ma come ho fatto a buttare via questa partita col bianco andiamoci a prendere questi questa ci capisci qualcosa qua otto alfieri il bianco ha otto alfieri ragazzi un record sembra moltissimo la vedo così piccola che non sono in grado di darti ah ecco adesso la vedo allora tu dici questa di duda yes ok allora 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 che dire ma è una posizione super 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 complessa perché il bianco ha un raid molto debito però però per ora riesce a tenere sotto controllo le case di entrata è chiaro che avendo la qualità in meno deve cercare di mangiarsi più pedoni possibili dunque la prima domanda che mi porrei mi porrei Carlo se in questa posizione il bianco può giocare donna per b7 e mangiarsi il pedone b7 presumo che a donna per b7 possa seguire un torre f di 8 con l'idea di entrare in d2 e a quel punto credo che l'unica cosa che può fare il bianco sia giocare alfiere c1 e impedire l'entrata della torre in d2 però questo vuol dire restituire almeno un pedone con alfiere per c3 bisogna capire se questo cambio di pedoni dal punto di vista posizionale pare regola il bianco però poi in posizione non c'è solo l'aspetto posizionale c'è anche l'aspetto tattico e della sicurezza del 3 perché adesso hai comunque la donna in b7 un po' lontana dal centro delle operazioni e dunque devi perdere almeno un tempo per poi portarla in 4 invece il bianco preferito giocare donna g4 e proporre il cambio di toglie io dubito fortemente Carlo che il nero abboccherà giocando donna per g4 e sdoppiando i pedoni al piano e infatti proprio in questo momento sottolineo che io lo dissi prima che l'abbia giocata gioca donna e 8 e si sottrae senti Matteo ma prima abbiamo detto una cosa forse non perché quando tu mi hai detto Duda si è buttato a bla 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 ma si è buttato ma guardate loro stanno pari e quindi si è buttato semplicemente perché vuole forzare al massimo col bianco cercando di vincere per adesso sono pari perché io da cosa aveva giocato pensavo che lui fosse sotto di un punto no invece perché Soglie ha regalato il punto nella partita che dicevo io e quindi ok allora adesso veramente sta forzando tantissimo per vincere avendo dato la qualità però un alfiere in esse che è molto più forte della torre del nero il problema però è che Soglie dice sì ma Cicetto guarda io ti entro in D2 come fa? il problema del bianco non sono i pezzi che non sono male il problema è il re perché adesso di nuovo penso che dovrà arrivare alfiere C1 per impedire torre D2 e mi lasci impresa pure C3 però certo però Carlo tu lo faresti entrare in D2 D2 non lo voglio fare entrare però così comincia a crollare un po' tutto forse ce la facciamo a dare matto di là noi? cioè noi che abbiamo il bianco che è un'idea carina potrebbe essere Donna G6 non serve a niente Donna G6 seguita da H6 guarda è bella non la puoi fare però Donna G6 seguita da H6 non funziona Donna G6 da sola funziona perché c'è matto oh guarda che comunque se ti gioco E4 arriva anche l'alfiere da quell'altra parte anche con H6 per esempio H6 adesso non serve a niente ma infatti credo che debba giocare E4 credo che debba giocare E4 mi sembra una mossa giusta perché attiva l'alfiere sull'altro lato il bianco ha bisogno di creare anche lui delle minacce perché se lascia che il nero si organizzi prima o poi gli entra con i cararmati in casa però se ho giocato H6 comunque io posso giocare sempre al fiere D2 con il nero anzi come diceva un mio amico non con i cararmati in casa ma con gli elefanti in casa H6 G6 Carlo scusa si può prendere il dono in G6 si può prendere bella domanda no perché poi dunque facciamo così facciamo che lo prendiamo e poi lo riprendiamo questo prima o poi ce lo facciamo e non possiamo giocatore F6 dobbiamo giocare donna F6 forse cioè donna F6 però donna F6 cambi le donne e improvvisamente i problemi del re del bianco spariscono dunque cercherei una mossa più ambiziosa per il nero in quel caso il problema è capire quale può essere questa mossa comunque siamo così bisogna vedere se funziona questa perché comunque il bianco minaccia ma se faccio scusa Carlo ma se faccio torre 8 e minaccio di mangiarmi l'alfiere in E6 ma nella posizione finale che abbiamo visto così si nella posizione finale che abbiamo visto ah però c'è donna C2 e mi rifaccio sull'alfiere di casa nere eh sì perché poi alla fine la variante cambiamo in F6 e fai il fiere B2 tipo così eh però di nuovo Carlo tutte le volte che cambi le donne il vantaggio del ah questo è detto il bianco certo il vantaggio del nero si annulla no no ma è detto proprio il bianco allora siamo beh io sai che sono più conservativo nei giudizi però sì il vantaggio comunque si annulla allora intanto ha giocato donna C4 eh e io ti ti ricordo che fra che fra 5 minuti esatti ti devo abbandonare ma poi se le partite dureranno oltre le 9.10 9.15 sono di ritorno va bene diciamo che mi sembra difficile perché intanto vi faccio vedere che ragiavo va perso e quindi hanno vareggiato l'incontro e Vasella Grava ha pattato con Aronian l'abbiamo visto Carse non ha neanche giocato c'è solo questa quindi c'è solo questa e scusa Carlo l'esito perciò dell'incontro fa Aronian e Vasella Grava lo vediamo subito insieme Evocation sei veramente cattiva su questa cosa qui guarda che me la segno e la dovrai scontare non vado a mangiare ti giuro che non vado a mangiare va bene intanto Vasella Grava ha vinto e per quello che Evocation ti avrà detto una cosa una cosa così sulla chat però quindi abbiamo ve l'ho messa un attimo sopra per vederla a volo abbiamo Carse il vincitore della prima prova Vasella Grava ha paura Evocation della mia tremenda vendetta perché mi dice mi dispiace tremenda vendetta ascolta l'amico Shibaita ci chiede se cosa fanno in caso di spareggio Carlo ve lo disse prima in caso di spareggio cioè di pareggio oggi non si spareggia l'incontro finisce in parità se invece vanno in pareggio domani dopo aver pareggiato oggi fanno il famoso match di spareggio lampo che non mi ricordo più Carlo Armageddon diretto o prima c'è una lampo per ciascuno no Armageddon Armageddon quattro partite aspetta che lo controlliamo anche insieme perché abbiamo mentre vediamo qua c'è no 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 Armageddon diretto l'avevano fatto nel primo nel primo Champions Tour dell'anno scorso nel Magnus Carsen Tour e la storia di un partita per ciascuno e poi Armageddon ma faceva i tempi troppo lunghi e la televisione disse no e dunque si è passati a spareggio diretto ok allora qui che ci stiamo capendo po' no scherzo a me piace più il bianco del nero perché il re del nero è veramente cioè vabbè il re del nero diciamo si salva grazie al suo alfiere che guarda tutte le case scure quindi tutto sommato però sta più anche il re del bianco sta esposto a un perpetuo mi pare non certo non prende certo dei matti strani beh senti Carlo la minaccia di donna c1 con un idea di perpetuo mi sembra una minaccia molto pratica no il bianco deve decidere che cosa fare contro questa mossa allora intanto c'è pedone f3 in presa quindi dobbiamo difendere quello io vado a controllare se ci sono delle novità infatti donne 4 perché perché comunque il problema è che il nero rimane sempre molto scomodo con questo pedone in H6 e con quel re lì anche senza donne quindi il problema del bianco è che ha un minuto contro 5 il problema del bianco decisamente è quello che ha un minuto contro 5 ma anche la posizione però Carlo mi sembra cattiva perché adesso stavo dicendo su donna c1 farà re g2 e mo gli spara donna g5 e a questo punto con re dove va dove va con re fa donna g4 o ripeto o fa donna g4 però donna g4 o donna d2 si proviamo 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 donna g4 donna d2 ma arriva l'alfiere così all'ingente non ci posso andare bene appunto è brutta brutta è brutta 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 per il signor rezzonico mi sembra brutta brutta guarda stavo guardando in questa variante che il nero può addirittura prendere qui si perché se prendi l'alfiere c'è torre qua eh si e se prendi di donna e se prendi di donna ti mangia la donna comunque ci sta provando torniamo subito sulla live che tanto comunque voi vedete sempre sulla destra quindi non eh ci sta provando questa è un'idea adesso però il problema c'è che donna a casa e mangia anche l'alfiere vabbè adesso lo toglierà ma così sta rischiando tantissimo il bianco no ma mi sembra mi sembra Carlo mi sembra che la posizione sia andata ma qui scusami ma qui non prende matto qua eh appunto ma che cosa ha fatto non è possibile G per F5 no deve fare deve fare donna H4 giusto donna H5 wow donna H5 beh c'è donna F2 mi sembra molto forte e anche alfiere I5 mi sembra donna F2 che minaccia eh mi preparo Carlo eh ma preparati con alfiere I5 allora sono d'accordo infatti si prepara con alfiere I5 prepararmi con con l'una e con l'altra perché sono d'accordo con te perché così petisco torre H2 no che posizione che posizione torre H2 mamma mia guardate due re quali quale di due re otto secondi perdura mamma mia che posizione eh sì tostissima da regge 2 secondi 2 2 1 f4 giocata con un secondo mamma mia e vabbè però Carlo donna per f4 dove andrà pure a f4 non c'è scherzare che minaccia pure a f4 però donna per f4 minaccia matto g3 eh ma minaccio matto in g3 e anche in h2 non puoi fare torre g1 c'è 5 secondi 5 secondi 4 3 2 ha perso mamma mia mamma mia ma veramente no però veramente l'ha buttata qua non ci credo che non ha la patta non ci posso cioè aveva la patta secondo me Carlo è stato peggio tutta la patta no ma scusami guarda Matteo guarda donna c1 scacco donna g4 ha giocato se torna in f1 che succede? che perde f5? forse perde f5 sì perde f5 però e se faccio torre di 8 prendi matto? come prendo matto? dico il bianco prende matto? eh minaccia torre di 1 prende matto prende matto prende matto ok quindi è stato il problema è che qui appena tu ti sei costretto a fare delle mosse passive l'altro ti prende il sopravvento e poi ti strangola la cura va bene un pezzo alla volta va bene allora molto bello e allora non è proprio vero che aveva la patta come mi sembrava e invece ha vinto ha vinto Wesley So che ti devo dire che ha fatto un recupero mostruoso perché aveva non dice il chat no allora eh sì Carlo però posso dire che io contesto la condotta di gioco per un ultimo turno ehm alla pari secondo me Duda esagerata ehm ma boh che ti devo dire comunque l'ha veramente un po' un po' buttata è perché aveva una posizione aveva stava guardate la diciamo la eh l'esito finale di oggi lui stava Duda stava vincendo grande cotoletta che ha raccolto la mia citazione dicendo che il bianco mi sa che è rimasto offeso come il signor Rozzonico nel famoso sketch del 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 trio Carlo io devo scappare perché sono già tre minuti in ritardo e vorrei mantenere il mio posto di di bossa di CES24 più che scappare penso che a questo punto chiudiamo perché le partite sono completamente finite e questi sono i risultati nessuno mi compare sui giocatori se ne sono già andati da mo' perché se non mi sarebbero comparsi sul ho controllato non ho nessun messaggio da Miss Aileen e dunque ti posso dire che sono pronte le grafiche se le vuoi sulla slack sono pronte le grafiche e io però ti abbandono va bene dai allora a questo punto io niente tu ma io quasi quasi la scena la chivo che esce l'ha scritto ancora buon appetito l'ho vista che l'ha scritto facciamo una cosa Matteo tanto le grafiche sono queste lo vedono qui poi le grafiche le facciamo rivedere domani intanto come vedete i giocatori là sono frizzati sono fermi semplicemente perché sono scappati via hanno chiuso tutto è rimasta l'immagine ferma ma noi quindi al posto dell'immagine ferma mettiamo un'altra cosina Matteo tu te ne vai ma ce ne andiamo insieme a questo punto e e quindi cosa dire ci vediamo domani alle 16.45 con grande giornata grande giornata perché ci sarà un Dubov che dovrà recuperare ma anche un Aronian che deve recuperare ma anche un Duda che si lancerà sempre più sì sì un Rajabov che deve meditare su cosa su cosa ha combinato oggi però in fondo non ha perso è pari dunque tutto può ancora succedere un saluto e un ringraziamento a te Carlo al nostro pubblico va bene allora sigla velocissima e buonanotte a tutti e prestissimo un bacio a revocation non vado a mangiare ciao ciao non vado a mangiare a mangiare a mangiare